siamo live sono le due e dieci e tutto va bene stiamo un po troppo vieni più verso me siamo molto illuminati si vado a spegnere non c'è bisogno che spegni bassa un pochettino ma scusate ragazzi stavamo discutendo di alessio che vuole a tutti i costi streammare ma proprio a tutti i costi vuole streammare valorant e allora stavamo facendo una discussione in proposito è vero ma che hai fatto gli sei tagliato i capelli no mi sono messo la cuffia mentre venivo perché avevo fatto la doccia al volo cuffia da piscina no la cuffia per me è anche quella di lana quello che voi chiamate il cappello di lana che si è messo per venire a 60 gradi un secondo per pettinarmi sono venuti un po così sono venuti un po aggressivi un po la lone wolf non è non credo sia non wolf dicevi capisco sai che sto tentando di sistemarmi un po la schiena alessio sempre più grosso comunque stanno facendo i complimenti sempre più grosso sempre più imponente ma magari dicono ciccione non credo che non sarei grosso sarei grasso non direi sempre più grosso facendo ovviamente un po di sport un'altra cosa che sto facendo mi sono comprato le fasce posturali quelle per le spalle e quella lombare cosa sono non so cosa sono le fasce posturali sono quella è presente gli adesivi no hai presente la fondina del sì dei poliziotti a lanciarte che ho visto mamma mia che merda quando sei andato al cinema e ieri notte perché lo vedi perché hanno aperto ma che ti aspettavi sì ma che ti aspettava perché lo vedi volevo vedere fino a che livello intanto non è andato male ne hanno parlato bene tutti ha fatto quasi no ma ne hanno anche parlato bene tutti un film d'azione semplice lo devi vedere cioè proprio è un è un'offesa a cosa all'umanità al alla ai film d'azione no al filone investigativo archeologico quelle robe lì c'è tutta la fase quindi è un insulto a indiana jones esatto siccome tutta la fase è quella è quella che determina il carattere di quel tipo di produzione lì la fase investigativa la risoluzione degli enigmi di genere vi è veramente patetico e ridicolo addirittura imbarazzante imbarazzante ma perché c'è che cosa c'è ad imbarazzante c'è non risolve bene non è credibile si è proprio surre c'è proprio chiaro c'è proprio sbagliato c'è non voglio spoilerare nulla lo guardi ti dico così quando lo quando se lo guarderai ti accorgerai che tutta quella parte lì è ridicola ci sono degli enigmi stupidi e che che portano i protagonisti in location idiote idiote sembrando male anche di di alcune città no perché tipo solo a barcellona stagione bacione a andare sotto sottoterra a barcellona a un certo punto questa cosa qua questi questi segreti che dovevano essere nascosti miliardi di anni finiscono in un tombino c'è roba che finiscono in un buco della reazione che finisce in una discoteca cioè che se chi l'ha montata poteva entrare da lì e c'era un corridoio che ti portava le catacombe nascoste da milioni di anni ho capito ma magari quella discoteca è molto antica posso spoilerare allora allarme allarme spoiler conto fino a 5 chi non ha visto il film spenga il volume dopo rifaccio un gesto per poterlo riattivare 5 allora aspetta intanto 3 2 1 chi è chi c'è c'è chi non c'è non c'è alla fine trovano sti cazzo di due galeoni ok che dovranno essere super nascosti in un'isola delle filippine ci arrivano per posti tortuosi sott'acqua e poi scopri che c'è un buco e forme sopra in quest'isola semplicemente erano dentro una caverna illuminata perché gli serviva dopo come spediente per poter ritirare su con degli elicotteri ok però che c'entra non è che non è che non sono facilmente trovabili se un'isola sconosciuta non è un'isola sconosciuta c'è c'è un c'è un resort giuro sulla mariuccia basta basta c'è un resort basta basta ok ok copriti la bocca ma che cazzo perché ti leggono i labbiari come fai te con tua madre cioè è offensivo se tu sei un cultore di indiana jones in particolare di indiana jones che è quello seminale tendenzialmente quali altri di archeologia ci sarebbe l'ara croft un pochino che però ha preso una deriva stai parlando sì però sui film non è così tanto archeologico sì comunque in particolare indiana jones e chiunque abbia visto il primo o il terzo è veramente una meraviglia sul secondo il focus è spinto su altre anche un po i film di di dan brown lì no ci metterei ci metterei invece per esempio che fece un ottimo lavoro furono quelli di con nicolas cage si si così del tesoro esatto molto molto carini molto carini poi ce n'era uno fighissimo che mi è piaciuto un sacco perché non si prendeva assolutamente sul serio che era con chris rock e quello che aveva fatto american pie quello stupido del gruppetto di american pie non mi ricordo assolutamente è un film carinissimo sempre d'archeologia no sono nella giungla vanno a cercare della roba c'è sempre un tesoro una roba del genere però super action con delle belle battute brillanti allora no il mio sgabello non è nettamente più alto di quello di alessio no c'è chiaramente un bel ti dicevo praticamente siccome ah sì le fasce posturali esatto cioè che sono delle fasce elastica è una fascia elastica sì la mia elastica ce ne sono con delle fibre e robe del genere ma ce ne sono con il velcro come si dice penso sia il velcro perché il feltro è un'altra cosa il felcro però c'è anche il felcro non so cosa sia no feltro boh velcro comunque direi velcro non è un reggiseno ti stanno chiedendo non è che era un reggiseno al principio è quello però mentre il reggiseno serve per tenerti sulle tette ma c'hai ferretti quindi le spalle è solo un elastico è una fascia che ti tiene le spalle così così non rischi di far cazzate no nei movimenti nel senso che ti corregge la postura ah ma perché sono da usare mentre ti alleni o sono da usare i punti io le uso mentre adesso sto al computer nella maggior parte della giornata che ti tiene così e l'altro invece è una fascia che mi fa da panciare ciò i rotoli di lardo che è così tanto stretta la stringi tu anche lì col velcro ok sì ma i fili la chiudi poi ha le bretelle che ti sostiene qua ha delle stecche ha delle stecche che c'era mi il link me la compro all'idol 10 euro luna no però su amazon è pieno ce ne sono costano 18 euro come si chiamano quindi fasce autoreggenti posturali che cerchi fasce posturali ci siano figa quelle lombari però fa ridere perché sono praticamente tutto cioè mi sveglio la mattina con la maglietta le metto sopra la maglietta sotto un eventuale felpa se c'è freschino e sembro e sembro sembro un cyborg perché sono tutto pieno di fa sembro goku del ma non fisicamente no però goku è presente quando va nel sì sì nella stanza della spazio del tempo non so se era lui si metteva le molle qualcuno si metteva le molle le molle io mi ricordo lui aveva il vestito pesante per potersi allenare non era non era tipo con le con le resistenze comunque cioè mi sono guardato allo specchio a parte che mi si stringe la vita il lardo va veramente così tanto beh sì sì senti ho capito ma non te lo comprime ti straborda è un pochino dovresti mettere prima di incontrare una donna però devo dire però devo dire che almeno sul brevissimo periodo un po mi aiuta mi fa stare bene durante la giornata soffro meno la stanchezza della sera di stare sulle sede sbagliate che ho a casa volevo andare un pochettino a ringraziare a casa no ma perché non lo fai in altre trasmissioni cioè allora non vi abbonate più allora ringrazio un sacco di gente grazie intanto dell'app train un app train molto triste di livello 2 grazie penello pellettra penello pellettra grazie danny kruger grazie ciabatta di bapu grazie a vince cap che ha regalato un abbonamento grazie a fanca blast grazie ad alex che ha regalato anche lui un abbonamento grazie a kenzo rollo che ha fatto i sei basta sono finiti anzi kenzo rollo mi sa che non era neanche di adesso era della live di prima quindi pochissimi abbonamenti pochissimo hype train quindi comunque possiamo dire che questa settimana la prossima settimana faremo si sbatte per far sta roba e poi ne manco vincere due live del salottino secondo me è un po eccessivo fare in preparazione a un evento che faremo che però non possiamo comunicare ancora no in nessun c'è siamo imbargati sull'evento quello lì quello lì che faremo relativo a valorant sì siamo stati imbargati quello nostro l'ho già detto se non oggi massimo domani annunceremo le date del raduno e poi ne parleremo venerdì al cortocircuito ok e altre cose che sono successe no quindi anciarte ti ha fatto cagare altra roba che hai visto oggi per caso allenato il petto in palestra ti chiede debots spiegherebbe il petto così prosperosa parte come fanno a vedere un petto così prosperoso con nero però no sto facendo sto ricominciando pian pianino progressivamente a riaumentare a tornare a un certo scusami però danny kruger dice giustamente queste cose vanno consigliate da un ortopedico non puoi metterle a caso magari ti fanno peggio di quello che dovrebbero non lo metto in dubbio però siccome vengono vendute sul banco di un supermercato è come è come tante cose vengono anche la lascia gentile viene venduta sul mercato ma se la bevi muori ho capito ma io non sto mangiando il vetro magari quelle cose andrebbero utilizzate applicandolo sotto consiglio medico è possibile non mi interessa però che cosa ho fatto prenotato un consiglio una risonanza magnetica venerdì prossimo prima del corto dove via terni ma fanno la risonanza magnetica a terni io mi informerei devo andare anch'io assolutamente la spiena sono distrutto ormai lombare tu come me io pure qua ormai io sono tre settimane sto malissimo esatto siccome ormai è diventato un dolore cronico in cui è un fastidio perenne che poi diventa picchi di dolore non c'è mai una giornata andiamo insieme io non a terni perché io vado in posti non ti preoccupa non verrei mai a terni a farmi la risonanza magnetica risonanza magnetica cazzo di foto è tipo un raggio un po più macchinari fatti bene persone competenti che te lo fanno ti comprati il macchinario e fai le risonanze magnetiche grazie ai potenti mezzi di net addiction anche gratis te vai no no non è gratis è un tipo un 30 per cento 30 per cento in meno o spendi il 30 per cento io invece andrò da un bravissimo radiologo interventista che conosco di fama nazionale rimane il fatto che questa roba qui purtroppo ha poco senso perché spesso e volentieri questo genere di problemi non sono risolvibili a meno che tu non arrivi no però almeno scopri se è un problema di ernia o di protusione o e però questo ti permette di non fare determinati sforzi che volendo sia un problema perché sia un problema no perché però scopri sia un problema posturale e allora in una serie di interventi sia un problema che c'è una produzione che indirizza che indirizza più che altro ha una maggiore attenzione consapevolezza nell'attività fisica però tendenzialmente non è l'inizio di un processo risolto di cura non ci sarà no ci può essere certi certi se hai un ernia no se hai un ernia particolare difficile operabile agilmente che non esistano ernie operabili da una vita soprattutto sul roba della scena però tendenzialmente per evitare lo strabordio ti consiglio ai taci devi mettere le mollette dietro come ho messo tutto pieno di mollette dietro che ti tengono tiratissimo molto bello ti chiedo se possono abbinarci ma credo sia abbonarsi al nuovo canale di fossetti ti chiedono io ho già fatto non ho messo il follow perché assolutamente li voglio seguire hanno fatto poi il botto con l'annuncio adesso vediamo come andranno a regime non ho messo hai visto il picco sì non mi ricordo 2008 è all'annuncio volevo mettere le sovraimpressioni che mi aveva girato l'agnetta non le ho messe ci sono quelle nuove no mettile mettile non so come metterle perché qui non ho accesso alla roba mia aspetta tanto tu chiacchiera cerco di recuperare un attimo le sovraimpressioni non so cosa ho visto ho cominciato a vedere bye bye ben 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 baby baby quello che ne ha parlato benissimo il tuo idolo che ho incontrato ieri tra l'altro non so che sia il mio idolo c'è solo un grande idolo che parla su instagram di cinema non è che ne hai molti che lui però non è non è cioè tu non sei il suo idolo non lo seguo più io sono diventato ma dai paolo io ci credo veramente zero no da quando mi cancellò su facebook stiamo parlando di roberto orecchioni mi cancellò su facebook per quel misunderstanding accusandomi non era chiaramente un misunderstanding perché non mi sarei mai permesso di offendere qualcuno che rispettavo prepotenza io sono sono diventato l'arci nemico ah sì sì io io c'è medito vendetta ah proprio c'è una roba quando un giorno potrò io sono sempre così io sono molto molto calmo mi hai fatto un torto non è che io passo le giornate a immaginare come posso restituirti il torto non sono così grettamente vendicativo ma ma so semplicemente io segno metto nel cassettino un giorno ci sarà che ne so un lavoro da tre milioni di dollari in cui io potrò decidere a chi affidarlo quindi comunque è una speranza c'è recchioni e il pupazzo baraldi in cui io posso muovere lo switch da una parte o l'altra certo tu in quello potete stare certi che il pupazzo baraddi guadagnerà tre milioni di però possiamo diciamo che è improbabile che diciamo che anche roberto può stare tranquillo perché è improbabile che accada però dovesse accadere io sono il villain in questo momento io medito vendetta vendetta perché per me o sei il mio idolo o io ti odio non c'è ti chiedono giustamente che misunderstanding c'è stato che perché per me non è un misunderstanding per me no allora purtroppo bisognerebbe risalire a quel post ma fece ridere perché era una conversazione non mi ricordo su qualche cosa di attualità utilizzai le sue stesse parole lui ripeteva sempre in continuazione i miei nostri privilegi di maschio bianco eterosessuale il maschio bianco eterosessuale e io gli scrissi con la premessa è ma da bianco maschio eterosessuale bla 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 lui la prese personalmente come un accusa completamente nonsense di qualcosa ma la cosa che fece ridere che da lì a tre giorni quattro giorni noi avevamo un l'ultra pop festival l'ultra pop festival dove lui era ospite per bonelli credo non mi ricordo per cosa e disse no io non vengo più all'ultra pop perché perché c'è di mezzo c'è di mezzo pianesani giusto e e dovetti cominciare un turbinio di telefonate tra tutte le persone che conoscevo che lo potevano conoscere per intercedere per me per spiegargli che non c'era nessun tipo di problema roba del genere lui alla fine ha condiscese ad essere sull'ultra pop festival ma io non dovevo essere nemmeno vicino se mai fossi stato in una delle live dell'ultra pop festival uno degli appuntamenti non dovevo neanche comparire vicino a livello di orario di posizionamento sono me anche giusto roba delirante roba delirante comunque ale giga abbronzato già si confermiamo allora dovrei aver messo la sovrimpressione solo che adesso c'è bisogno di un abbonamento noi lo possiamo vedere di no sì certo praticamente compare anche a noi oppure di un following si si vede qua sopra se è giusto se è giusto per una volta che ve lo chiedo no anche il follow basta fate un follow possono anche fare il defollow fate tutti il defollow eccolo ok funziona ma scusami ma queste qua sono le mie perché pensavo che le avessi fatte io ma no hai detto quelle che mi ha mandato ragnetta nuove stavo facendo quel lavoro lì grande al colico sono quelle le sovraimpressioni che infatti sono state fatte che io le ho messe non le avevo mai messe in live ce le ho fatte tre anni fa e le ho messe quindi che vuol dire ma quindi c'è non capisco quindi qual è il problema se l'ho messa adesso pensavo visto che ragnetta stava lavorando alla produzione di queste poi cambieranno cambieranno queste infatti nel frattempo le mettiamo l'hai rotta no 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 la mia la mia sparisce quando sparisce il testo eccola va risettando era prima perché si stava muovendo in quel momento guarda vedrai adesso sparisce tutto insieme pronta visto è incredibile però queste le ho fatte io tre anni fa quindi tu ti rendi conto perché per tre anni non ha mai detto perché non le avete messe no io l'ho detto quante volte ti ho detto perché non ci sono mai mai vabbè però c'è sei senza memoria sputi sul lavoro che faccio a me infatti quello non è vero assolutamente quello non è vero e poi mi fanno anche cagare perché tendenzialmente le hai fatte ma come ti fanno cagare ma io non sono un motion grafico cioè io ho preso non sia un motion grafico quella lì del cuore con quella specie di oro fa vomitare fa vomitare comunque ti hanno pagato e allora sti cazzi no non mi hanno come no sei pagato stipendiato tutti i mesi però se io sto fermo immobile e io lavoro in ogni caso il mio stipendio non cambia quindi tendenzialmente devo stare fermo immobile per ottimizzare al meglio guadagnare al massimo ok è uno schifo poi roba di attualità soltanto volevo dire vecchiate malissimo volevo dire volevo una cosa il sono stato facile profeta per quanto riguarda xbox l'evento di xbox di cui abbiamo parlato al cortocircuito che vedi tipo te stesso lì sì questo perché l'evento sarà quanto pare di un'ora e mezza e tutti gli studi avranno qualcosa da prendere non è di tutti gli studi hanno detto che tutti gli studi hanno mandato qualcosa qualcosa in un'ora e mezzo questo vuol dire che sarà un profluvio di giochi sarà un bel momento per xbox e confermare che non è un parrucchino quello che hai perché un po lo stanno chiedendo sono i suoi capelli confermo che adesso ha i capelli o i capelli però stanno anche a me rovinandosi qua sono tutti rovinati tendenzialmente ho paura di rimanere non è che rovinati non sono la questione che tu almeno calvo hai una tua dignità estetica ok perché hai una forma a 12 calvo non ti puoi vedere mi hai visto quando mi razza i capelli stavi male sembrava adriotti calvo con con le ali di pipistrello parte che non conosco adriotti calvo quindi non ho idea di questa cosa qui dovrei avere la foto state seguendo dep heard sia alessio proprio non se ne perde uno io invece zero io lo guardo io lo guardo lo so tutti i giorni live sì sì sono tipo sei ore di live al giorno ha creato te infatti per me te ne dovresti ma prima non stai ma io non so d'accordo con te che sei male a parte la foto di merda perché ti fai la foto con quella faccia storta brutta con le tette però che c'entra però non è normale se non stai mai male pierpa cosa ne pensi del trailer di avatar mi chiede carlo guarda ci sarà una storiella che pubblicherò e assolutamente super underwhelming per quello che mi riguarda come si dice in gergo cioè nel senso allora ma scusami ha due problemi il trailer di avatar per me il primo mettersi gli occhialini cioè per me andare al cinema e mettersi gli occhialini per rivedere qualcosa in 3d nel 2022 è proprio la cosa più lontana da una roba piacevole interessante tra l'altro che ripartono anche quelle robe dei fuori fuoco eccetera non mi ricordo neanche più quando è stata l'ultima volta che ho visto cosa 3d al cinema non lo so scusa ma l'ho rimosso pausa l'unica mia speranza in un'applicazione 3d al cinema che però è completamente fuori dal mondo perché vorrebbe dire rivoluzionare tutta la tecnologia che adesso ha a disposizione all'interno del cinema per cui avevano anche speso dei soldi sarebbe proprio quella col fuoco dinamico assolutamente perché così è fastidiosissimo perché tu non puoi guardare qualcosa fuori fuoco è una cosa non puoi guardare una cosa la cui messa a fuoco è stata scelta da un altro lo devi fare in base a con l'i3 però se è una roba da misure di guarda non di occhialini comunque quindi c'ha due problemi uno rimettersi oggi a vedere una roba in 3d veramente ragazzi secondo me è super anacronistico cioè a me mi ha proprio dato fastidio e in seconda battuta lo vedrete perché prima o poi a parte sta fanfara di marketing che va visto al cinema non c'è l'obbligo di vederlo in 3d comunque quando uscirà sarà sicuramente anche secondo me esattamente come hanno fatto adesso per il trailer che non lo stanno mettendo sulle piattaforme solite per un periodo tempo limitato ovviamente ma perché vogliono far passare il messaggio che avatar va visto in 3d secondo me saranno molte poche le sale che all'inizio lo faranno uscire in 2d poi certo è chiaro che poi arriverà anche in tv non è tirando di tv no 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 sì però anche al cinema ma secondo me sarà veramente 9 a 1 la differenza il problema è che tolto anche la questione del 3d c'è un trailer lo vedrete un trailer cioè bellissimo tecnicamente ma proprio c'è gente che vola gente che gente che vola belli scenari fatti benissimo loro però pochi trailer con pochissimo mordente io non capisco non l'ho visto non l'ho visto non l'ho visto un po inutile non riesco a capire che cosa possono aver fatto a livello tecnologico di render 3d per cui la gente dice si è fatto da dio cioè nel senso che secondo me il character design di quella roba lì l'ho trovato sempre brutto 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 cioè per me è brutto per me è brutto tutta quella roba psichedelica del mondo di com'è che si chiama di avatar andora andora non l'ho mai trovato particolarmente ispirato interessante perché tutto è per me è la cgi di un videogioco dell'epoca 360 cioè quell'immaginario lì un po tutto troppo luminoso tutto finto è tutto finto cioè non è che hai una vegetazione che ti sembra una vegetazione talmente surreale sparata plasticosa e un po con quei colori da fibra ottica che 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 è molto anni 80 non mi ha fatto quell'effetto però capisco quello che dice si molto questi steli con la luce alla fine dice alessio che stai a dire cioè questo è il mio punto di vista dal lato artistico io ho trovato avatar veramente brutto cioè veramente poco in linea con quello che per me è un'estetica vincente e ribadirlo infatti quello che mi chiedo è se a livello tecnologico non fa un balzo e il livello di rendering oggi a dei stiamo parlando di qualsiasi produzione ea dei livelli mostruosi che cazzo può aver fatto per renderlo una bella storia spero perché dal trailer non si è vincita però la gente che mi dice l'ho visto è fighissimo tecnicamente ma sono tutti fighissimo si è bello tecnicamente perché è bello per le espressività belle tecnicamente no no a parte quello che rivoluzione l'animazione no no va benissimo però quella animazione parlo di di anime di strettamente cgi e perché susa spai arcane comunque non lo definisci cgi e computer grafica comunque sempre grafica fatta il computer vabbè allora adesso aspetta allora anche il fumetto adesso è cgi perché lo fai sull'ipad non è così quella è un'animazione ibrida tradizionale 3d con delle sue tecnologie robe del genere bello mi interessa artisticamente il capolavoro per me è il top lo lascerei fuori a me quelle le cose che fanno impressione invece sono gli effetti speciali di cui tu non ti accorgi tipo vai a vedere il making of della scena di spider-man sul ponte quando arriva octopus tu vedi che c'è lui una macchina tutto il resto è finto e se tu lo vai a vedere c'è è impossibile distinguere è impossibile quello per me è il livello di cgi che voglio vedere e che per me è incredibile perché i riflessi sulle auto c'è c'è un livello di complessità tale quella roba lì anche incredibile c'è un'altra foto di scena con zendaya se non ricordo male nell'autobus che è incredibile che persino i vetri dell'autobus non rotti anche quelli interi non ci sono i vetri che è fatta al computer con perfezione da un punto di vista di riflessi e cosa quella roba lì è incredibile pianella mi sa che l'ha visto in dvx oma torna al cinema a vedere avatar sti cazzi io sono contento se la gente va al cinema a vedere i film che gli piacciono per me anche la storia a me c'è posso dire una cosa dimmi certo avatar per me è un film che mi ha fatto cagare certo però però andai al cinema per sperimentare quel livello di 3d e si è uscito insoddisfatto la stessa esperienza che ho avuto quando ho provato la via la prima volta sono uscito soddisfatto detto che il 3d ho dato non è che non mi appartiene ho già ho già esaurito tutto quello che il 3d poteva darmi comunque ti dice gamago sul 3d dovrebbe aver usato tecnologie ad high frame rate più avanzate di quelle di lo hobbit ma quella roba lì applicata al 3d che ne dovrebbe aumentare la definizione risultato dovrebbe essere a 120 delle cose ad high frame risultano un po soppopera quindi avatar 2 sarà una soppopera 3d confermata allora l'ha visto lui io sentirei parlare lui ci sembrava cinematografico ma contemporaneamente non dico che ho visto una roba era tantissimo che non andavo a vedere una roba 3d al cinema non mi ricordo neanche qual è stata l'ultima cosa 3d che ho visto al cinema secondo me potrebbe essere veramente il primo hobbit potrebbe essere che secondo me la proiezione era per forza in 3d però ti dico quando l'ho visto ne ho detto oh cazzo sto vedendo un altro 3d cioè il mio cervello non ha registrato una cosa completamente diversa esattamente quello che ti ricorda anzi la prima cosa purtroppo è quello che mi ricorda visto che il trailer gioca tanto su questo fatto secondo me tutto il film sui parallasse quindi tutti questi effetti con la palmetta davanti tutta super errata mi ha tantissimo quella roba lì che a me infastidisce perché cominci quella roba del fuori fuoco col viso dietro che però è a fuoco che a me infastidisce tanto per darti st'effetto della profondità perché ricordiamo una cosa è tutto così il trailer quell'effetto lì del della della del campo di fuoco molto ridotto è estremamente piacevole quando vai a vedere una composizione in 2d ma quando sei immerso come il 3d con appunto quel livello di profondità percepito diventa veramente fastidioso perché se tu sposti gli occhi su qualcosa di fuori fuoco in un ambiente che ti sembra realistico completamente controintuitivo perché in quel modo in quel momento dovresti vedere la palma a fuoco invece la palma rimane esatto fuori fuoco esatto ed è insopportabile c'è delta prime che te lo sbatte in faccia con violenza perché dice avatar invecchiato male nell'immaginario collettivo ma 12 anni fa quando è uscito era il film visivamente che cambiava le regole del cinema e basarsi solo su ora che non so che significa è ipocrita alessio sia un ipocrita no perché non ha assolutamente capito quello che ho detto sono andato al cinema a vedere avatar avatar ha rivoluzionato ha fatto una roba che era impensabile perché per avatar le sale cinematografiche hanno buttato via un sacco di soldi per attrezzarsi per fare il 3d che ha avuto quella fiammatina di otto mesi un anno e mezzo no da di più di più di più tre anni buoni ce l'hanno avuta la roba in 3d che usciva no perché l'idea era perdonami l'idea secondo me era tutti i blockbuster da lì dovevano uscire in 3d sono sfumati cioè hai visto in game in 3d no ma tre anni se li sono fatti di 3d e quello che ha fatto per esempio era mi ricordo mi ero entusiasmato scusami probabilmente non l'hai visto in hfr pierpa guarda jack non lo so non ho chiesto ma l'ho visto nel modo migliore possibile perché era una proiezione ad hoc per farti vedere il trailer quindi di certo non me l'hanno fatto vedere una modalità di merda quello che mi entusiasmò per esempio della produzione di avatar fu la prima volta in cui cameron aveva a disposizione telecamere mobile che facciano i rendering in tempo reale in tempo reale cioè quella roba lì è sconvolgente io c'è cameron è dio dio comunque dice bigy luke che ancora oggi c'è la roba in 3d per esempio endgame è uscito in 3d no non lo metto in dubbio infatti ho detto l'hai visto in 3d non lo metto in dubbio che sia uscito perché probabilmente adesso è un gimmick abilità 3d metti 3d esatto però diciamo che non vengono pensati è quello cioè non è diventata un elemento fondante della grammatica cinematografica è semplicemente un gimmick da da infilarci perché mi abbassi il microfono non abbassato tutti i microfoni perché vedo che va sempre in clipping su su abs non mi va e quello è stato stupefacente altre cose di attualità prima di cominciare dico dottor stage che invece ho visto in 2d tra l'altro purtroppo l'ho visto doppiato in italiano nonostante nell'invito stampa c'era scritto che sarebbe stato in lingua originale confermi come ha detto liguori che è imbarzante non mi ha dato fastidio quanto a luca ci sono film che mi hanno dato più fastidio io non posso più vedere un film allora ci sono film che mi hanno dato più fastidio non mi ricordo ho visto un film di recente secondo noi per esempio mi ha dato molto più fastidio animali fantastici che ho visto al cinema in italiano chiaramente sono andato con mia moglie ci aveva delle parti mi davano molto più fastidio questo mi ha dato fastidio il giusto e so che sei curioso so che lo vedrai alla fine dottor strange ci pensavo mentre venivo qua perché sapevo che ne avresti parlato e mi sono chiesto ma mi interessa l'opinione di questo film mi sono risposto no non ti interessa la tua opinione perché non mi viene mai in mente esatto non mi viene mai in mente voglio un consiglio cinematografico aspetta che vado sull'instagram di pierpaolo esatto però posso darlo comunque è pieno è pieno aspetta è pieno di coglioni a cui probabilmente interessa quindi ti lascio parlare perché per esempio su instagram tutti hanno i propri i propri feticismi e poi soprattutto qui dentro c'è dove c'è della gente che difficilmente riesce anche a mettere di fronte una parola con l'altra sicuramente ancora più focalizzato sulla stupidità della gente per cui può essere che ci sia corrispondenza ma molto velocemente perché tanto non faccio spoiler visto mi avete chiesto intanto ma alla fine è bello brutto tutto quanto è esattamente la roba marvel che vi potete aspettare piacevolissimo da vedere l'ho visto con piacere queste due ore qualcosa che passano molto rapide ha due tre chicche secondo me molto interessanti cioè comunque questa sorta di deriva un po horror che ovviamente fra mille virgolette e in particolare c'è un punto centrale che ha chiaramente per me ha avuto chiaramente riferimenti anche a the boys su come hanno gestito una serie di supereroi a me è piaciuto comunque sono delle idee diverse dal solito che non ti aspetti da un film marvel da qui a diventare il punto di riferimento per i film supereroistici no da qui a diventare il primo film che chi odia supereroi deve vedere no farà meglio di spider-man questo mi interessa di più impossibile spider-man secondo me ha molto più però però interesse però nelle nelle pre ovvio spider-man è molto più trasversale non c'è paragone per me è più bello di spider-man io non sono di quelli che si ha visto l'ultimo spider-man io l'ho visto molto dopo per me non è il capolavoro che tutti hanno dichiarato e dipinto io non ho sentito nessuno dichiarare un capolavoro se leggi le recensioni dell'ultimo spider-man c'è un elogio dipende sempre veramente trasversale beh certo se hai letto le recensioni di io odio spider-man.com sono sicuro che ne hai detto male ma in generale c'è stato un grande parlavene dell'ultimo spider-man va bene però le prevendite pare ovviamente perché siamo sempre in periodo uscita pandemia quindi c'è sempre una progressione secondo me ogni blockbuster che esce farà sempre meglio del precedente ma le prevendite sono andate meglio di spider-man sì però secondo me era un altro spider-man uscito proprio in un periodo in cui al cinema non si poteva andare dottor strange è anche è record sì e ti sto dicendo è uscito in un periodo in cui la gente non poteva andare al cinema quindi si è costruito il successo in un certo modo adesso dottor strange molta gente se lo vuole andare a vedere anche solo perché finalmente un motivo per tornare al cinema che non c'è riuscito neanche batman con tutto che ha fatto record pure quello lì allora ti dico a me è piaciuto di più sicuramente di spider-man l'ho trovato un po' più corrente e soprattutto più interessante soprattutto anche nel nel nemico diciamo nel cattivo e però a parte questo film piacevole in realtà ero andato in primis anche il curiosito da avatar e poi mi sono goduto molto di più ma se noi arrivamo la live ieri ma perché porca la gran puttana sei andato al cinema c'è perché ti ho detto volevo andarci ti ho detto ci volevo andare a vedere questa ma che discorso è voglio andarci io voglio cucinare una frittata e ti dicono guarda oggi voglio cucinare una frittata vai a fare in culo no è una scusa è veramente irrispettoso è una scusa per la mia disponibilità no perché tu la frittata la puoi cucinare quando ti pare la proiezione al cinema era ieri ma cosa te ne frega di andare al cinema vedere spider vs madness e mi interessava incontrare una serie di persone con cui dovevo parlare che sapevo che avrei visto in quell'occasione recchioni volevi parlare con recchioni state tramando contro di me non ho parlato con roberto anche lui non ci parla con me con tutto ci conosciamo ma perché perché è una persona purtroppo per quanto si sia allontanato le persone intelligenti le persone intelligenti ci stanno congono una distanza cioè ti guardano con sospetto ti inquadrano con chiarezza e ovviamente ti evitano quale parti di animali fattaci ti hanno dato fastidio come doppiaggio gli stranieri si il tizio tedesco per me che ancora oggi allora io non l'ho sentito l'inglese ma ancora con quella roba di sono andata non così tanto però con quella con quella specie di cadenza da tedesco che parla male l'italiano a me mi fa scoppiare la testa quindi quella roba lì mi proprio mi infastidisce cioè non è credibile mi dà proprio fastidio ed è anche perché secondo me è fatto pure male come questione come per esempio ho visto che volevo morire sulla sette io vedo sempre la sette che vedo il telegiornale poi mi vedo otto e mezzo mi vedo di solito sempre la cosa politica che fanno dopo. Adesso la sette ha comprato l'esclusiva della serie televisiva di zeleschi la come si chiama l'uomo del popolo non mi c'è presente che lui nasceva con questa serie televisiva in cui diventava presidente dell'ucraina C'è la storia di zeleschi non se ne manca la storia di zeleschi no vabbè ha fatto un reality per diventare presidente lui nasce come comico si ho capito e ha fatto il suo più grande successo Ha fatto un coverage della sua non è un coverage lui ha fatto una serie lui quando era faceva il comico ha fatto una serie televisiva in cui impersonava un professore che diventava presidente dell'ucraina Per una serie come quella dei verdone che diventa sindaco di roma esatto E la sette chiaramente mangiando la foglia si è comprata l'esclusiva perché ci sarà qualcuno che si verrà qua a merda perché per me non si può guardare però ci sta qualcuno che l'ha comprata L'hanno doppiata in italiano? Lo sai chi doppia zeleschi? Quello di Luca Luca di Luca e Paolo si chiamano Luca e Paolo i due comici che aprono poi tra l'altro di martedì di Floris sono Luca e Paolo no? Luca che si soglu? Mi sa che è Paolo che si soglu No passo Paolo e Luca Luca è quello ricciolino Ah quindi è un po' genovese un po' nasale Allora non ci voglio mettere la certezza ma per me è Luca che doppia zeleschi Se vai in chat che è bloccato Per me è Luca che è Bizzarri Secondo me è Luca Bizzarri che doppia zeleschi Ce l'hai riconosciuto prepotentemente Beh secondo me è proprio super riconoscibile Che probabilmente Sì sì è lui Col fatto che credo che lui sia sotto contratto perché fa l'apertura di martedì di Floris Ok Quindi magari ho detto già che ci stai faccio questo doppiaggio È in asco ma lo sai che è come se doppiassi io Come se mi dessero un protagonista di una serie e io lo doppiassi Renditi conto Cioè che guardo Doctor Strange e dico E lui sei tu È peggio Nella mia testa sei tu È peggio Moon Knight Come si chiama? No Moon Knight Non l'ho visto Oscar Isaac Io faccio doppio tutto Moon Knight lo doppio io Oscar Isaac Cioè per me è veramente inquietante proprio questa roba qui E mi chiedo ma come ti fa venire in mente e comprire la serie Guarda che io la faccio doppia Da Luca Bizzarri Cioè per me è una roba È un po' come quelle robe che fanno per promuovere Mi è scoppiata la testa Quella tendenza molto molto triste dei doppiatori dei cartoni animati Allora bravo Giu PTV Luca Bizzarri aveva doppiato le foglie dell'imperatore Che faceva il protagonista che non ricordo come si chiama Ed era bellissimo Però è diverso perché quello è super caricaturale Esatto Poi diventa un lama È sui cartoni animati E tra l'altro deve modulare la voce perché lui parlava in un modo molto strano il protagonista Cioè quando va a fare il tizio Cioè comunque per quanto può essere una commedia Quindi la serie l'hai guardata un po'? No visto solamente un momento Ho detto fammi vedere sta cagata Giusto che vede l'inizio Poi a un certo punto ho sentito fatto Ma no ma può essere Luca Bizzarri Per forza ha sentito male Poi ho detto ma no è impossibile Scusami puoi spostarli e metterli Visto che ti piace tanto quella cosa lì Te li metti sulla faccia Cusco bravissimo Te li metti sulla faccia Sì Te li metti sulla faccia Perché mi fa ridere che Che la gente mi possa cancellare Sì che almeno gli dai un motivo per abbonarsi Non è semplice Però no 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 Lo devi fare quando siamo là sopra Ah quindi lo vuoi Ma anche qui te lo posso mettere Tanto sono separati eh Posso metterlo anche qui sulla mia faccia Ah ok sono Adesso Ti giù vai scendici sugli occhi Ah proprio sugli occhi Eh sì Ok ok così mi piace Anche quell'altro Ok Eh l'altro però devo farlo Mentre c'è un altro che si abbona No quell'altro Quello lì che tu hai spostato Quella finestra È tutti gli alert Sì tutti gli alert Non li distingui gli alert No no Dovresti perché magari Non posso perché l'alert è uno Ma dobbiamo vedere qua se lo sposto Però qua viene molto grande Secondo me Secondo me No 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 Fate fate un'altra roba Fate un altro buonamento Anche solo un follow Anche solo un follow Per vedere se mi copre correttamente Vediamo eh Così lo cambio in tempo reale Almeno così incentivo la roba In modo che non ti si veda mai la faccia Per tutta la live Che se però proprio Grande 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 sì Un pochino più giù Un pochino più giù Così Perfetto Vai switcha e giochiamo Ah già iniziamo così Non parliamo più di altro? No possiamo parlare anche di altro Ma vorrei andare Vorrei fare una cosa Voglio finire di comprare No Cioè la mia premessa era Voglio fare dei gameplay Facciamo gameplay Grandi Grandi Lo stai sparando questo segnale? Certo eh No posso ottenere per me No 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 Che discorso Se era la preview No certo certo Lo sto sparando ovviamente Ottimo ottimo Vi prego Un follow follow Un follow follow Un follow follow Un follow follow Allora La cucina del duca Devi usare il pesce? No sto vendendo tutto Guarda che tutti fanno Un follow follow Guardali guardali Boom 16 mesi Dai 100 mesi Oh guarda Sono contento degli abbonamenti Sei felice? Sì molto molto Guarda come arriva la palla Uno dietro l'altro Vi prego Voglio qua Metterla su YouTube Che non si veda mai la faccia Da questo momento in poi Sarebbe complessibile Capire Dov'è il tuo gusto È bellissimo È bellissimo Senti ce la teniamo La Magnum Anzi guarda Mi sono appena ispirato Per fare Per fare delle grafiche Che ti ricoprono La faccia Adesso mi torno Voglio diventare il maestro Del motion graphic design Dicevo Investiamo Comunque posso dire una cosa Certo dimmi Tre anni fa Era all'avanguardia No 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 Senza nessuna competenza di Ah era all'avanguardia Non era all'avanguardia Io comunque porto a casa Il risultato Con grandissima dignità Pur non avendo Nessuna competenza E non c'era Dentro i tuoi Dipendenti Stipendiati Per fare quel lavoro Non erano in grado Di farlo Dico solo questo Allora Di quelli di adesso Raggetta Ci sta mettendo troppo A sostituirli Te lo dico Te lo dico Qui lo dico Gli hai dato del budget O lo deve fare A strette di mano e sorrisi No no Penso che paghi Per fare la grafica Assolutamente Non me l'ha chiesto a me Perché ne parla con Vincenzo Ma dopo è scontato Che siano pagate le grafiche Cioè per certo Dicevo Investiamo sulla Magnum E Soppiantiamo la pistola Non me ne frega niente Io voglio fare Continuate Continuate Così Così Ti interessa avere una Magnum Imbracciare una Magnum Niente Non me ne frega Niente Se non è sbagliato Oggi è gameplay Oggi facciamo il 30% del gioco Tra parentesi Ho preso una spinina Perché ho sempre No oggi abbiamo bisogno del pesce Alessio Andiamo solo a caccia di pesce Perfetto Ci dovete dire in chat Dove si raggiunge il pesce Diteci in chat Come dice giustamente Vincenzo Ma il creative director Non è lui Che c'entra Ragnetta Ragnetta Lo dice Ragnetta Lo dice Vincenzo Che cosa significa però Ti ha chiesto Io sì assolutamente Sono il direttore creativo E ho dato fiducia totale a Ragnetta È un po' facile così però Io sono Aspetta aspetta Io non sono il presidente operaio Io non sono il presidente operaio Tu che non ti assumi le responsabilità Della direzione Delle testate Per cui sei diretto Vieni a dire a me Io sono il direttore creativo Io dico Ok mi fido di te No qui devi lavorare così E bla 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 Insomma però così È un po' faciletto Posso dire quella cosa lì Cioè guarda Guarda la grafica che abbiamo Guarda la grafica che abbiamo Tu hai mai visto Hai mai visto Quel piccolo accento Quella M Che fa da clip E regge la cosa Sì non mi piace Perché hai fatto L'hai mai visto in giro Da qualche parte L'hai mai visto in giro No no aspetta Io l'ho cambiata E l'ho allontanata Ah esatto Allora a posto Però Ragnetta Non ha avuto tempo di guardare Perché adesso è in trasloco E quelle sono qui lì Sono intervenuto Quasi hai dipinto Possiamo dire C'era già la Mona Lisa completa Del lavoro E adesso Delle maestranze Poi io sono arrivato Scusa la Mona Lisa Diciamo Un'opera pittorica Sì Poi sono arrivato Io ho messo quel piccolo accento Di cose Di meraviglia Ed è fiorito E adesso tranquillamente Può andare al Sono d'accordo Al Come cazzo si chiama Al Louvre Non solo sono d'accordo Se ne parla anche nel mondo Di questa cosa Beh intanto Essere originali Con questa roba qua Bravo Dilo forte Non è una roba semplice Dilo forte Non è una roba semplice Dilo più forte Perché il layout Del cortocircuito Sfido chiunque A trovare qualcosa Di simile Nell'ambito Vai 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 sui sitarelli Di Twitch Bravo Frames Roba del genere È tutto uguale Declinato in verde In viola Roba del genere Lì invece c'è Qui abbiamo Ho portato Pollock Dentro il cazzo Di Frame di Twitch Ma di che cosa parliamo Cioè siamo Avanguardie Dovevate raccogliere il pesce Scendete nella piazza Con la statua Oltrepassate il cimitero Arrivate al laghetto Dove c'è il ponte elevatoio Non ci siamo andati Ci siamo già andati Ci siamo già andati Ah no Questo Andate avanti Andate avanti Possiamo 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 Fare che Hai finito di comprare Hai finito Non so dove andare Prendi il pesce Vado qua Prendi il pesce Perché prendo il pa di mano io Allora Lo spettacolo Bravi continuate Grazie per il follow Ghost Sprint Hai visto che l'ho ammazzato Grazie per il follow Globe underscore IT Hai visto che l'ho ammazzato Due con un singolo colpo O Job o Globe Hai preso due lama Con una fava Pesce C'era il pesce Sì sto andando Ma dove stai andando Eri il pesce Eccolo si stavo guardando Di là che altro c'era Vi facciamo come l'altra volta E me l'hai piaciuto tantissimo La tua idea Grazie per il follow Max Kevin 67 Grazie per l'abbonamento Di sei mesi Luke 1983 C'è un ammazzato uno E basta Cioè sei riuscito a sprecare La dinamite È incredibile Che coglione Grazie per il follow Nick 72 49 Ho preso il volo sto pesce Grazie per il follow Williams underscore KJ Mamma mia Non sono mai stato così contento Per i follow E gli abbonamenti Grazie per il follow Luigi CR 95 Ma non l'hai appena fatto Stai continuando a fare follow on follow Follow on follow Follow on follow Grazie per il follow King Pepper G6 Perché li dici in inglese? Perché sono scritti in inglese Grazie per il follow Genjox Thank you for following Lagos underscore TV Thank you for the following Global Vegas Thank you for the following No, no, no I'm gonna say so Oh, thank you for following Thank you for following Mr. Domox Mr. Underscore Domox Thank you for following Bill underscore Mastro 91 Mastro 91 91 Thank you for following Eccolo New Storm 86 85 86 Senti Mettiamoci ai fornelli Thank you for following Aliuts 19 Wow, grazie per i miti tei e i tre sapori A new follower Buono Camo Camo 19 Camo Coma 19 A new follower Quasimagia underscore Johnny Quasimagia Johnny Riprova di nuovo Thank you for following Amnesiacs underscore Ah, mazza Potevo fare questo Potevo fare Invece non ci ho pensato Come un idiota Thank you for following Stephen Power Non so dove si trova La carne di qualità La carne succulenta Thank you for following David Dad La carne di un raro uccello Ci serve la carne di un raro uccello Alessio qua Perché ridi? Thank you for the follow Frazier Eye 86 Oh, it's a fucking bang 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 Here I'm following Thank you for follow V for Vendemia Allora, sei carne Ce ne serve Chiaramente si stanno defollowando Certo, certo Thank you for follow Prince 8080 Grandioso Grandioso Thank you for follow Bedell 82 Bedell 82 Pesce prelibato Thank you for follow Demer 23 Demer 23 Non so come facciamo Alec Che manca ancora un sacco di pesce Allora, allora Per non devastare Thank you for the follow Savers underscore game È Saveri Savers underscore game Interrompo quello dei follow Perché chiaramente c'è un hack mostruoso Mi attiverò sui cuoricini Sui cuoricini Hai finito di Voglio andare dritto per dritto Sto facendo un sacco di roba Alessio Ho fatto mezzo gioco Allora, ancora thank you Hai salvato? Hai comprato tutto? Sì, tra l'altro Sono stato talmente bravo Che non ho neanche consumato la cura Avvertimi se ci sono dei cuori Non ho neanche consumato la cura Dove devo andare? Là, dalla Porta Rossa Devi Perché non c'è più la mappa sulla Y Grazie al canale di Fabio Per l'abbonamento regalato Dove vado? Ti ho detto Dalla Porta Rossa Sì, ma dove? Qual è l'obiettivo? In che senso? Devi seguire le frecce Quali frecce? In alta a sinistra c'è la freccia Eccola lì Vedi, Rose is waiting for you Segui le frecce Allora Allora Tutte le statistiche del canale Andate a puttane Guardate, fate incazzare tutti Fate incazzare Vincenzo Cristina Grazie Camo Per l'abbonamento E vedo Debo Si dice Alessio Sei grasso e noioso Assolutamente sì Grazie Feito sei ali? Eh certo C'era scritto anche sulla porta No, non ne ho idea Si Si vedeva chiaramente sulla porta disegnata Non mi interessa Io vado dritto per dritto L'hai sbloccata Spostate le notifiche Come una pelata di Pier Purtroppo Padre Ignazio Questo è lo scopo Vi divertite su questa cosa qui E qui No, no, no Fede, stai perso tutto fuori Oh Non c'è niente Come no? C'è una strada intera Che non stai seguendo Cioè? Alla tua destra c'è la strada Ma posso entrare? No, no Vai sulla strada nascosta Però alza lo sguardo Perché non si vede niente Per farti le seghe di otto qua Alza lo sguardo Troppo alzato, no? Piano, piano Non correre E c'ho caldo C'ho freddo C'ho tiepido Cioè il corvo cazzo Dovevi ammazzare Guarda un po' a sinistra C'è del pesce secco Il pesce, il pesce No, no Nell'acqua Nell'acqua Non lo puoi prendere Il pesce nell'acqua Il pesce nell'acqua Guarda di intorno Se vedi dei pesci No, di là non l'hai visto Non si vede niente Però non correre Che non è divertente Non... Voglio finire il gioco Pierpaolo Devo... Questa l'abbiamo messa noi L'ho presa io questa qua Falla, spaccala Con cosa? Col coltello Grazie Eliudz19 Per i cinque abbonamenti regalati Grazie, grazie, grazie mille Grazie Grazie di nuovo Camo Miss Fortune Per un altro abbonamento regalato Grazie C'è il COF di venerdì Ha chiesto Camo? Dipende dalla qualità dei commenti Al cortocircuito Per ora avendoli visti Direi di no Allora mi dicono C'è un tesoro Qui dietro Intanto ti sei sbagliato Esatto Fermati Allora dobbiamo fare questa parte qui Però dopo dobbiamo ritornare Dobbiamo ucciso Dove ho ucciso le capre Ci stanno gli uccelli speciali lì Qui cosa devo fare? Cosa vuoi che faccia? Però veloce Attraversa No, prima vai a vedere di là che c'è Faccio scoppiare Perché c'è un barilotto Interessante Guarda se ci sono dei pesci in acqua Io farei scoppiare quel barilotto Secondo me mi serve a qualcosa Non lo posso prima far arrivare nell'acqua Poi dopo distruggere quel bagaglio lì? Lo posso spingere? Certo, ho fatto apposta No, non si muove Allora scoppialo Però da lontano Non da vicino È uno spreco secondo me Vuol dire che qua ci sarà un cattivo Vai Guarda che c'è un altro lì Prova Spaccali tutti e due Era uno spreco, sì Sono d'accordo con te Ma arriverà sicuramente qualcuno di incazzato Poteva essere utile Allora Guarda un po' Non li spacca, non lo scoppia Mi si è fatto male Ho sentito qualcosa di strano Sì, era l'amore No, no, non di là Guarda un po' qua su se puoi salire Allora Prova a salire un po' Poi però dobbiamo andare anche nella strada di prima È chiusa dall'altro lato Alessio Può andare a sinistra? No, è chiuso Allora passa dal ponte Elevatoio Ma sei sicuro? Sì, sì, sì Ponte a destra allora A destra, a destra È chiuso dall'altro lato Spaccalo, spaccalo No, no, no Un fucile a pompa No, no Vabbè Prendilo subito questo, eh In testa Un colpo secco in testa Evita di farlo molire soffrendo Prendilo con un colpo secco in testa Cosa hai fatto? Mi sono fatto male con un maiale Non bisogna cacciare, non bisogna cacciare Ammazza, Alessio Non so dove sia Stavo per morire Dai, hai visto? Cioè, hai visto? Certo, gli hai sparato dappertutto tranne che addosso Oh, mamma mia Prendi il cristallo Cioè, hai visto il male La sofferenza Uno strano concetto di testa Sì, sono d'accordo Di qua? No, c'era un cristallo là Ma tu hai visto che cosa è successo? Cosa sto raccogliendo? C'era un cristallo di là Dietro di te c'era un cristallo Dentro alla casetta Dentro alla casupola Stava un cristalletto Quale casupola? Questa a sinistra Cioè, eccolo Perfetto Adesso rimettiti la pistola Quanto deve essere umiliante Farsi uccidere da Alessio Sì, sì, sono d'accordo Sono d'accordo Ah, questa qua ti volevo chiedere Vero, vedi? Che ce l'hanno fatto commentare Jack Ne parlavo con mia moglie La clausola matrimoniale di Gelo e Ben Affleck Secondo cui Lui deve fare sesso con lei Almeno quattro volte a settimana O tre o quattro volte a settimana Eh, ma me la spieghi che senso ha? Non lo so Ci sono dei doveri matrimoniali Ma questa, cioè Che senso ha? Ma fisicamente è possibile C'è comunque gente che ha una certa età Vabbè, mica c'ha 90 anni Ma secondo me è uno stunt promozionale Non ha nessun senso Ma dice addirittura Uno stunt promozionale per cosa? Uno stunt promozionale Qual è la promozione? Cioè, qual è il suo scopo? Magari è un po' spaventata Vuole esaurire talmente la sua libido Che, cioè Non gli viene neanche in mente D'andarsi a scopare qualcun'altra Più che altro Cioè, che fai? Quattro volte Non è al giorno È a settimana, ragazzi Ma che quattro volte? Eh, esatto Quello che dice Grembiolino Secondo te è credibile? Perché ne parlavo con mia moglie Potrebbe essere che lei lo fa così Lui non ha la forza di andare con altre donne? Mi piace perché mi ascolti No, ho detto Per esaurire la sua libido La sua libido La libido di lui Ah, è Cioè, secondo me è credibile? No, mi sembra una stronzata Molto semplicemente Perché poi è gente che lavora Questi qua stanno lontani Probabilmente otto mesi l'anno Cioè, quando cazzo stanno insieme? No Mi sembra una stronzata Cioè, una roba da pubblicità Da stand pubblicitario Se è vero Ma potrebbe invece essere un mossa paracule Vado che lei ha un modo di rompere il contratto? Ha un appello per rompere il contratto? Ah, sì, un appello Ha una clausola Per poter rompere il contratto Cioè, che se lui non fa quattro volte Come specifico del contratto Lei lo può lasciare per giusta causa? Dipende quali poi sono le sanzioni Se magari hanno fatto una totale separazione dei beni Dei beni per cui non ci si può rivalere l'uno sull'altro Completamente irrilevante Cioè, nel senso Fai l'annullamento di un eventuale matrimonio Cioè, non basta una riga Per definire semplicemente Perché è la riga che fa più scalpore Non so, non sono d'accordo con te E poi è chiaro che Cioè, nessuno può scopare cinque volte a settimana Cosa ci sono? Corpi che sgocciolano Qua siamo nella segheria di Otto Comunque io non Cioè, non potrei accondiscendere mai una roba Addirittura? Sì, per me Che non ce la fai? Sì, una volta Ogni paio di settimane, forse Grazie Liriam007 per l'abbonamento Siamo passati a Fallout qui, eh Cioè, Otto che fa le seghe Io non avrei mai fatto sta mossa che hai fatto te Tra l'altro ho visto lì come si è girato Hai visto come si è girato proprio? Sono molto arrabbiato Bello che stava incastratissimo, eh Ma non l'avrei fatta sta mossa io Molto grande, tra l'altro Il biscotto, eh Stà distruggendo tutto Non lo so, non lo so Posso cambiare arma? No, avrei evitato Quale arma uso? Quale arma uso? Dai, questo c'è un sacco di colpi Ma questo lo fai fuori in un attimo Lui non sa passare quella porta Perché è troppo grande Non mi ha toccato, vero lui? No, zero Non ti ha fatto nulla Allora preferisco usare la pistola Se lui non mi ha toccato Lo dici che si rigenera? No, non credo Si sente ma non si vede? Ma dov'è? Non lo so Oh, sta a destra per forza Sto sicuramente il dozzetto Mi sono levato anche questo No, no Questo non ha senso Sto cercando la pistola Ma secondo te Ma qua a destra subito Magari sei addormentato Forse sta sopra No, non lo sa qua È la mia ombra Ma sei addormentato da qualche parte Grazie Chiotto86 per l'abbonamento Si è addormentato da qualche parte Secondo me sta sopra Ma perché dovrebbe essere salito? Ce l'aveva con me? Fai un'ombra molto grande La tua ombra è veramente imponente Non c'è più Sta dormendo da qualche parte Secondo me è andato sopra Allora Ti hai visto che sta sopra? Te l'ho detto che era sopra Allora, tanto c'è i barili sotto Quindi devi cercare di farlo scendere Tanto sale da lì Aspetta, aspetta, aspetta Non è che scende a destra magari di te Può essere No, no, scende da là Che lo sta facendo? Russa più il mostro Alessio Senamente Alessio È un po' come me No! Cos'è? Non lo so, però mi ha fatto male Ma cos'era? È caduto Non si sa Secondo me è sfondato Sali su, sali sul barili Da sotto di lui Ce n'era uno No, no Troppo lontano adesso Se fai schifo, eh Guardate, vai vomitare, eh È a destra E dai però Te lo senti? Non era a destra Sì, era la tua destra Quella è la sinistra No, ma che cazzo dici? Era la tua destra Dai Che ha fatto? Ha fatto... Che fai? Scappo? Cosa vuoi che faccia? Scappo? Devi fare quello sopra? Sì, lo so Madonna Fa tipo una carica di fuoco Vai sopra lì Così lui deve venire per forza da dietro Girati! È che secondo me lui sale anche in altri modi Vedi? Hai capito come? Mi dava quest'idea qui Veloce! Eh sì, ma quanto sei veramente un coglione Mi hai detto veloce Sì, ma non veloce sparati in testa L'ho beccato secondo te? Sì, sì, l'hai preso Però non è morto Fa un rumore strano No, è ancora... È molto incazzato anche Ma è diventato un leone, è diventato Sei riaddormentato Veramente imbarazzante Sì, sì, confermiamo ragazzi Comunque non ho neanche le... No, nonostante abbia preso 16 volte No, perché ho fatto il potenziamento con la cucina L'è, muo resisti molto di più Dove sei, bastardo? Cambiamo un caricatore intanto Ah, non so già palla Ogni volta esci la stanza rigenera tutta la vita No, no, è impossibile ragazzi Oh, oh, si è attivato, si è attivato, si è attivato, si è attivato Sì, ma corri! Non lo vedi che cammini? Ma dov'è lui? Cos'è questo? Un altro volante Cosa fai? Esco dalla porta? No, non esco dalla porta Cosa fai? Era l'unica porta aperta C'è il corvo dietro di te, eh? Lo so, lo so, lo so Madonna Alessio, fai veramente... Sai che mi fai venire male dentro? Perché mi rendo conto che vorrei muovere io Ma non mi è possibile perché ci sei te, purtroppo? Cioè, è proprio fastidioso, eh? Sì, sì, la verminara Fa venire la verminara Confermo, confermo Cos'è la verminara? Che dà fastidio dentro Ti fai venire i vermi Fai venire Dov'è l'uccello? È sopra di te, Ale Credo sia sulla tua testa l'uccello, Alessio La vedi? Era proprio sopra Sì, ti sta anche mangiando Ti sta anche succhiando Sparagli a terra Basta C'è lui dietro C'è lui di fianco È dietro Devi stare sulle scale, Alessio Perché... Cosa fai? C'è il muro Cioè, veramente Ma che fai? Ma dov'è lui? Perché scompare? Ti chiede Siri Rachi Se può mandarti una foto o se Sì, sì, sì Grazie Tashi 884 Per i 35 Su Instagram, grazie Su Instagram in privato Sì, sì Per oggi la progressione finisce qui Confermo Il che io vorrei vederlo È come guardare Un film horror fatto dai Vanzina Dice Dimer 23 Oh Mi fa a vederli Però si continua Grazie Fabulous per i 31 Dici che mi aveva visto? Sì Sì Sì, ma se continua a fare così Non lo prenderei mai, Alessio Non ti preoccupare Eh, non mi preoccupo È noioso però Devo conoscerlo Non è che sono preoccupato È che è noioso Conosci, conosci Eh sì, che palle Conosci il tuo nemico? Eh, vabbè Lo colpisco Lo colpisco da qua Sì, certo Sul tonascella però Non penso che tu li faccia molto male così Oh però, preferisco usare la pistola Eh sì, vabbè Preferisco usare la pistola Ma non gli stai a fare niente però Da dove risalirà adesso? Pier, gioca tu Mi sto ammosciando Voglio vedere Alessio giocare su Valorant Ma comunque hai una tua tecnica Devo dire la verità Eh Quando fa così che si succede Adesso diventa un leone Ah, richiama Sta chiamando gli amici Capito? Tu gli fai chiamare gli amici Così vuole che tu ti faccia un salto importante Eh Hai gli uccelli sopra Alessio Sì, sì, sì No No Riesci a prendere la Sei uscito a prendere l'ascia Questo è per Sei riuscito Per lo spettacolo Allora, si dirà chi Ti ha mandato la foto Cazzo è successo? Ti ha succhiato L'uccello Ti ha succhiato Mi posso curare? Assolutamente no Ah, devo finirlo così? Sì, certo Stai facendo schifo Hai sprecato un milione di munizioni Sprega pure le cure Sì, hai ragione Un tutorial su come non si dovrebbe giocare Dare fastidio ai nemici Ottima tecnica Sono tanti Sono tanti Dove siete bastardi? Muori e passa sto controller Se no quasi fa notte Non morirò mai Ma tanto è bello Perché non prendi mai nessuno Non è importante Non serve Eh ma hai finito le munizioni A un certo punto Non è che ricompaiono le munizioni Ce ne sono là No, finite Non c'erano munizioni di pistola Le hai prese tutte Le hai consumate Avrei sparato 50 colpi Ma non ho un'altra pistola Non hai preso 7 pistole C'è una magnum Con 3 colpi e basta Ma se ne hai consumati 50 qui Figurati con la magnum Niente Madonna quanto è grande questa accetta Quest'ascia Dici che tira il colpo adesso? Ah l'obiettivo non è bucare il tetto Cosa ho preso? Cosa ho preso? È un rumore stranissimo Sembra di vedere una live di Ray Charles Che sei bastardo Fa in tempo a chiamare tutta la compagnia di amici di questo passo Con tutto quello che fumi e come guidi La frase non morirò mai Non rappresenta per te la verità Hanno detto Sta per arrivare la botta Sta per arrivare la botta Madonna che botta che ti arriva adesso Ma non sprecare però Mi è scappato Ma come ti è scappato? Che cazzo vuol dire ti è scappato Alessio? Cioè devi spingere il grilletto Mi è scappato Cioè mi è scappato Eh lo fai andare a chiamare però di nuovo gli amici Alè Finiamo più però sta cosa eh Non ti preoccupare Cioè c'è venti colpi che sono rimasti Dai Eh sì Ma volevo beccare al volo mentre scendiamo Madonna che palle Dai stai colpendo tutto tranne lui Dall'alto Non c'era nessuno Colpivi tutto tranne lui Che palle Che noia Allora chiamati altri Così perdiamo un altro po' di tempo Alessio spera che con le scale inciampi ragazzi La sua speranza è che possa inciampare con le scale Ho quattro colpi poi ho finito la pistola La live di tre ore oggi è perché così riesce a fare il boss No neanche secondo me ragazzi Posso cambiare arma? No perché lei però non possiamo rimanere senza munizioni Continui Cioè hai sprecato un sacco di munizioni Hai sprecato Eh Cambia arma Sono finito Abbiamo finito le pistola Abbiamo munizioni di pistola però Cioè Oh vedete come giocavamo Senza le munizioni della pistola L'ho colpito? Oh Hai mirato talmente basso Che potresti Aver preso qualsiasi cosa Aspetta che si avvicina bene Sta arrivando Sta arrivando Che senso sta arrivando? Hai sentito il salto? Sì sta per te a sinistra Dove? Eh bene Gira di Sparagli No È già lì da me vedi Appunto È velocissimo Vabbè niente Madonna che sassata Eh ma mi ha sorpreso devo dire Mi ha aspettato Mi ha preso per il culo Ti ha preso bene anche Eh sì 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 Non riesco a scappare da qui Non riesco a scappare Certo sei bloccato Sprieto Ma che hai fatto? Perché ti sei fatto trovare il viso? Che coglione veramente Però non si sa perché non ti ha colpito Eh Quanta è che si cura? Quanta è che mi passa il rosso? Adesso Ale Penso sia morto Eh Beh di noia No sta russando Nessuno sa perché non ti abbia colpito Effettivamente là Eh Veramente senza senso È morto Ah no Sì sì Dove sei bastardo? È sempre sopra lei Quando sta così è sempre sopra là Ha richiamato altre Andiamo avanti così all'infinito No così non ti colpi Così sì Ma tagliene due E gliele potevi dare Scusa metti due mine a terra Effettivamente Y Aspetta 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 Ma cos'è? Metti la mine a terra Metti la mine a terra È veramente un nemico È veramente un nemico idiota Cioè Veramente idiota questa cosa Cioè Perché non muore? Non so ma fa veramente cagare Sta sto combattimento qua Veramente un brutto Che state facendo? La porta Sono entrato Ma che si dica Certo che sei entrato Non volevo entrare Cioè è veramente schifo Metti la mine a terra qua sotto Metti la subito qua Y Y Sinistra No là esatto Vai Equipaggio Esatto Mettila subito qua a terra No più avanti Entra nel coso Sempre il grilletto destro Ma entra nella porta Vai Adesso esci Non così vicino Perché oppure ti faccia male Così vicino Allora Per tornare a poi Alla mia marma Ok No mettine due Metti in un'altra Vai a mettere una mine anche di là Così lui ti insegue Di là dove? A sinistra Perché? Perché fai un percorso di mine Così lui ti segue E cade sulle mine Mina sotto Alla è tutto in basso Perfetto Valla mette capito Sulla sinistra Vai Perfetto Adesso fanno venì Qua c'è del No basta Non così tante Se ci cammino Non andare lì Dall'altra parte Così ti rivieni addosso Non mi puoi urlare così No ma così non ha senso Se ci cammino Muoio sì o no Non muori Ma prendine una Non ti preoccupare È tutto sotto contro Riprendila questa No Tre mine Si scoppiano a vicenda Alessio Scoppiano a vicenda La raccolgo dopo No perché così scoppiano a vicenda Non scoppiano Sì Vieni vieni Adesso ti faccio vedere Che scoppiano a vicenda adesso Sono bloccato Vedi sono tutte scoppiate Vedi con un colpo Le fatte scoppiare tutte È morto lì È scomparso No Sono scoppiati tutte e due Vedi hai fatto una cazzata Hai fatto scoppiare due mine E le hai sprecate Mentre invece Se tu le metti a una distanza Di sicurezza Loro non si scoppiano in testa Dov'è lui È pieno di uccelli Lui non c'è mai Vieni qua Non era lì dietro Non lo so dove Secondo me è sempre sopra Le Pieno di uccelli Eh sì Continua a farli ritornare Stai fiorando tutte le munizioni Stai facendo malissimo Sto scontro Ricarichiamolo Fai un po' meglio Le Dai Fa proprio male Sto scontro Mi devo sparare Un altro colpo Ma scusami Però fa schifo Cioè Stai veramente C'è Mine scoppiati inutili Senza munizioni Madonna che liscio Storico Cioè hai capito Metti giù adesso la mina Metti giù adesso Sono la mina Niente Poi non si sa perché Che schifo Sono dentro di lui Spara Spara 40 colpi Ma ci può essere un colpo Che non va a segno Però è veramente sprecato Tante munizioni Alessio Veramente Ma perché non colpisce Perché non colpisce Sprecato le mine Sprecato le munizioni Mostra una sua Richiamare altri uccelli Dai non si fa così Però il combattimentale Perché poi ve lo ritengo Che c'ho zero di tutto Però Ricarica Ricarica e gioca bene Dai Esci 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 Perché non ricomincia Perché secondo me ricomincia È tipo esci dal menu Secondo me Cioè veramente mi rovini Dai Mi rovini Sì sì Dai gioca bene Non c'è un gioca bene Sì c'è un gioca bene Che non è questo Alessio Spingi 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 Cioè c'è un giocare bene Che non è questo Alè Non è così Sì dai dai Fa schifo dai Ammazza anche meglio 20 minuti peggiori giocati Dai Abbiamo fatto fuori Già due ore di gameplay Inutili Dai vai Vai dai Riprendi Non entrare Ammazza il maiale Niente Ce la fai proprio ammazzarlo Con colpo in testa Lo devi far soffrire Sto paro maiale Cercherei a ammazzare un colpo in testa Vorrei non vederlo soffrire Raccogli il diamante Perfetto Poi c'era la cassa L'hai già spaccata vero? Sì ok Adesso senti qua a me Tanto lui non ti vede Vai piano piano Piazza un percorso di mine Molto lontane una dall'altra Fai del gameplay Di professione Esatto Equipaggia Lo posso uccidere col coltello? No Equipaggia perché non riesci a farlo Con la pistola e col fucile a pompa Figurati col coltello Vai Lo uccido col coltello Se no le mine te le metti tu Basta Così non mi rompe il cazzo Delle munizioni Ma bus Puoi usare le mine Se gliele piazzi Così lui viene piano piano E lo inculi? Mi puoi dare retta? Ragazzi Io non so che dirvi Adesso devi fare questa cosa inutile Quando l'avevi già ammazzato Se ti facevi come ti dicevo io Tra l'altro dicono tutti Che sei uscito alla stanza Si ricarica? Sì Tutti Non so se l'hai preso secondo me Ah sì sì Se l'hai preso Vai vai adesso Il piede gli hai preso Non si capisce cosa gli hai colpito Adesso sta chiamando No guarda ti salta Penso addosso Non penso cade sul posto Vai da lì Da lì Bello La mina La mina La mina Gli avevi già ammazzato Y Y Y Ma dai Non fare col coltello Alessio Dai non ha senso Combatti per battere A lei No combatti per fare Destrezza Haa Haa Tanto non lo prendi neanche Non so se te ne rendi conto Nonostante lui sia fermo A non fare niente Comunque tu non lo prendi Sei anche estremamente lento Nei movimenti adesso Eh per lì mi ha preso il palo Ti ha preso il palo Ho preso io il palo Prevedo una lunga battaglia Col coltellino per spalmare il burro Mozzagli il pisello Hanno detto tutti Ci sentiamo come un rumore di ossa Hai sentito Un crack Ho fatto molto male C'è una ascia bellissima lui Ha chiamato gli amici ricordati Che schifo Quanto hai sudato Giocando Che devi fare col cellulare? Che devi fare col cellulare? Mi dici che devi fare col cellulare? C'è un colpo Vedi come si ammazzano i maiali? Un colpo in testa Capito? E questa è la differenza sostanziale No Tra chi ha la dominanza del fucile Soprattutto ha il controllo della violenza No E chi non sa giocare? No Colpo singolo in testa Fatto bene Comunque io ti ho passato il pad E mi sono suicidato Come hai visto Perché sono rimasto lì sotto le sue gambe Ti sei suicidato? Hai giocato male? No no Come lo no? No aspetta Gli ultimi colpi che ho fatto col coltello Sono per suicidare Ma perché sei stupido Però perché giocavi benissimo Non aveva senso Aveva molto più senso Come stavi facendo infatti Stavi giocando molto bene No non mi interessa Io so che lo posso battere Con solo coltello Tu sprechi un sacco di mine Boom Perché non lo colpisci in testa? No scusi Boom Perché non hai raccolto le munizioni? Che stai fatto? Non l'hai colpito? Eh ma potete Ma non mi venisse Io prima Vincino Di qua dentro Grazie a tutti Grazie a tutti Questo è come si gioca Rifallo con la pistola Non c'è bisogno Non c'è bisogno C'è bisogno semplicemente di vedere la destrezza La gestione degli spazi Il controllo del nemico Ragazzi di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Sono qui pronto Discutiamo di qualsiasi cosa Aspetta fammi raccogliere la roba Mi sono bagnato Di che vogliamo discorre? È la proprio gestione perfetta Degli spazi di azione Mi sono emozionato di meno Con il mio primo a trenta e l'ho dell'università Quanto cazzo è campione? Mi si è alzato C'è gestione del movimento C'è niente da dire Perché hai visto? Era proprio la gestione degli spazi Era questo che contava Niente Niente Dai basta Non dimentichiamo il sangue freddo Finale Finito C'è ancora qualcosa da raccogliere Alessio? Comunque Giordano aveva mandato un messaggio di qualche tipo Pierpaolo Che ti ha scritto? Non l'hai letto Non lo so Ma te l'ha mandata a te Mi hai detto Una roba che ha a che fare con il doppiaggio Probabilmente era relato a quello che dicevamo prima Era delle 14.38 Quindi un'ora fa Del doppiaggio cioè? Sì Quando parlavamo dei doppiaggi fatti male Ah Adesso che c'è scritto Giordano Tipo che è il nostro migliore amico Quello che ha doppiato No non lo so Mi ha mandato un trailer di una serie di Apple Plus Credo Di Apple TV o roba del genere Ma scissione tu l'hai visto in italiano no? Perché dicevi c'è l'abonamento a Apple TV Ma io comunque Ho l'abonamento a Apple TV Ah però per vederlo in inglese Sempre seleziono lingua originale Sottotitoli in inglese Se lo dico Che cosa mi manca da raccogliere qui? Non lo so Guarda la chat se ce lo spiegano Perché ci dice che manca qualcosa Voglio rivedere Alessio col pad Ah lo so Sì se adesso ve lo passo Ma ragazzi Ragazzi Cioè Voi dovete Dovete distinguere Il gameplay creativo E l'arte Da Il mero mestiere Dall'esecuzione Lui esatto Lui è come È come Cioè Io sono quello che completa I ponti e le autostrade Tu sei quello che poi li fa crollare Tu sei quello che viene Che deve pittare Esatto Prende il colore E pittura E effettivamente lo copre È vero È vero C'è arte in quello No C'è mestiere Punto Mi dici che cosa manca Qua Alessio Te lo fai dire in chat Per cortesia Ci manca qualcosa Che non abbiamo raccolto Ecco C'è stata un'esibizione Di controllo Della potenza Allucinante Sì è incredibile Perché c'è Proprio si percepiva La gestione Si è entrato A prendere il loot Raccogli tutto Velocemente Sto raccogliendo tonnellate di carne Sì ma andiamo avanti Abbiamo ancora quest'ora e mezza Di qualità Voglio fare progressi Sì ma te lo sto facendo fare O arte Ma non loot Loot è la noia Parte che loot è arte Non serve a nulla Loot è arte Partiamo da questo presupposto Pierpaolo dovrebbero farlo Redattore Rettore dell'università Dell'abilità Lo sai che Guarda questo Ho preso l'angelo di padre Nicola Dell'abilismo Incredibile Persino l'angelo di padre Nicola Pierpaolo è il wheel hunting Dei videogiochi Confermo Confermo ragazzi Poi ho preso Ma poi ho preso Una quantità di roba Cioè guarda Pure la foresta Pierpaolo aveva una faccia Concentrata e rilassata Allo stesso tempo Perché quella si chiama Faccia del dominio Cioè della consapevolezza Dei propri mezzi E delle strategie adottate Dio santissimo Ma chi cazzo Cioè ma chi cazzo è Sniper lit Pierpaolo è il rain man Del mondo videoludico Mamma mia Mamma mia Ma che cazzo sono Ma cioè Ma hai visto che roba Li ammucchi tu i cadaveri Cioè è incredibile Mi sembrava di essere Quello sul campanine Nella guerra contro i nazisti Cioè è incredibile È incredibile proprio Cioè è Guarda Rapido Rapido No ma non è rapidità È una questione di Cioè è incredibile Dove devi andare adesso Guarda la shot Cioè è È una roba Veramente Vi prego Fermatelo Altrimenti Devo dare lo straccio Per terra Credibile Sono sconvolto Il John Wick Di multiplayer Eh esatto Veramente un momento Di azioni John Wick Questo era Perché come vedete Sa utilizzare ogni arma Al 140% Sì 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 Cioè con il mano Fucile a pompo È il troll top Con il Con il fucile da cecchino Incredibile Lui arriva e pulisce Il ripulitore Allora ci hanno detto Che qua dove ho ammazzato Le capre C'è un uccello speciale Torna in quel cancello Dicono Vogliono tornare Al momento Accessibilità Pada ad ad essio Sì se adesso Glielo do subito Ah le puoi chiedere A Pierpaolo Se questa forte paura Per i giochi horror Era comparsa Man mano che diventava adulto Fin da piccolo Avevi paura Io ad esempio Non riesco a giocarli Da sempre Sì sì da sempre Non è che mi è venuta Man mano Ragazzi dov'è Vede i codici Lui non vede i codici Lui vede proprio Quello che produce il gioco Cioè non Assolutamente lui Non è in grado Di astrarre Da quello che vede E infatti è uno Che si lascia Affabulare Dalla componente ruolistica Dal loot Tutte quelle minchiate lì Quello è proprio L'antitesi Di vedere il codice di Matrix Dove hai ucciso I due caproni neri Con il fucile Guarda in alto Sull'albero Ci sta un uccello speciale Ale che le pensi di scissione Ve lo straconsiglio Però penso Cioè la prima stagione Finisce con un cliffhanger Che secondo me Dovrebbe essere Illegale Fare Ma lo vedi l'uccello Lo senti Però si sente Lo senti? Sei sicuro Di essere Sull'albero giusto? Chiaramente Lo senti? Parlo che non sarà speciale Sarà un corvo Ma perché Perché stai solo Su questo albero? Ci sono alberi Dappertutto Eccolo Mamma mia Che gioco Guarda Di una violenza Gratuita Non ha componente horror Fa solo male Agli animali Gente che va in giro A disintegrare la natura Comunque è incredibile Perché È il 100% di gestione Non ho ancora visto The Northman Ragazzi Quindi non ne posso parlare Ti spiace non averlo visto Perché non sei ancora Andato al cinema? Perché a Narni Non è ancora arrivato Ah non l'hanno ancora trasmesso? Se Pierre non facesse il loot Tu non potresti Consumare 100 minuti Bravissimi Cercate di spiegarglielo Al coglione qui Alessio Sa ancora sognare Assolutamente Assolutamente Alessio riesce a leggere Il codice nelle donne Invece no Sono un mistero Molto più complesso Lì non c'è Matrix Cioè purtroppo Lì c'è la natura È tutt'altro Alessio è l'Hans Landa del nazismo È una presa leggera Hai visto? Ale la gente Si appassiona le cose Sei tu che galleggi Nella superficialità E rosichi E dici che gli altri Sono malati Senti questo No anche voi invece Siete vittima Della narrazione È questo Cioè quando vedrete La realtà per quello che è Vedrete la meraviglia Della realtà Lo stupore E non vi dovreste Non avreste bisogno Di aggrapparvi A delle pure menzogne Che sono Semplice intrattenimento Quando non sono crimini Per distrarvi Dalle cose importanti Voglio almeno Un'altra puntata Togliete il pada A Pierpa Alessio Un attimo Hai letto No ma probabilmente Dice perché magari Finisce il gioco Oh mio dio Alessio Abbiamo fatto anche La torcitura di Pui Sì la torcitura di Pui Guardala Non me ne frega Guardala che l'essio la prepara Niente Mettiamoci ai fornelli Alessio è il grinch Del modenese Alessio se avessi Un po' di amore Non saresti così grezzo Non è Eccola lì Non è amore Le vostre di cui parlate Sono pure infatuazioni Senza senso L'amore è un'altra cosa Alessio è il dada Il dada Non so chi sia dada Cioè sei Il movimento Dadaista Questo ho fatto una cazzata L'avremmo potuto dominare Un movimento a poco senso Ho fatto una cazzata Qua potevo farlo Col pesce Preferisci Preferisci Berengherio O Padre Nicola Padre Nicola Con l'H poi in particolare È proprio sexy Possiamo dire che Pier è solo il migliore di sempre Sui videogiochi Anche su Pornhub Non se la cava niente male Grazie ragazzi Cioè praticamente Tu hai ottenuto Quello che Ninja Voleva per se stesso Che era Proprio uguale a Ninja Il miglior gamer Di sempre Assolutamente Quando penso a me E al mio conto in banca Penso a Ninja No perché lui è diventato Uno dei più popolari Se non il più popolare Ma non il più bravo Esatto Tu hai raggiunto Quella che era la sua ambizione Probabilmente lui ti invidia Sì sicuro Pier ma certe volte Non ti sconvolgi Il coltello è ucciso tutti Il coltello è sufficiente Ma chi è Guarda Vierà da sopra Verrà da sopra Viene da sopra Alessio Non da sotto Da sotto Dai da sotto Ma che dai Guarda la scala Viene da sopra Non viene da nessuna parte Viene da sopra Perché tu stai salendo su Questi sono morti Alessio Voglio mettere la pistola Stai sempre al solito posto Ho anche comprato Un milione di munizioni nuove Sono sempre 63 Come prima No Li comprate un milione Però prima non le ho usate Calcolando con il rifletto Ti ho fatto risalvare Non guardare indietro Non c'è nessuno Era un rumore strano Era uno che correva Un jogger Potrebbe essere Vuoi che ti Abbatto tutti Quegli cieli Direi di no Perché facciamo in tempo Probabilmente ci serve Una mitragliatrice Ho sentito un rumore io Scusami Vuoi che ne abbatte uno No non ne abbatte nessuno Neanche uno No zero Vai avanti Sono finti Posso lanciare No Una dinamite in aria Sparargli No E sì Sicuro Sicuro E far esplodere gli uccelli in volo Metti select Per vedere la strada Se è quella giusta Stai nel bosco proibito La prendiamo dall'alto o dal basso? Io dai sempre dall'alto Perché è strategicamente Tatticamente Tatticamente è un vantaggio Sempre un vantaggio Anche per quello che Io guarderei in basso Eccolo C'è il licantropo Solito Questo lo poteva Vivi secondo me il tempo Per farlo fuori Ce ne sono diversi Anche a sinistra Questa è una bella mossa Ma attento che ce ne stanno diversi Non devi scappare Ti stai svegliando tutti Non so se hai visto Tutto sotto controllo Va bene Vabbè Usi sempre la stessa tattica Di scappare Non uso la stessa tattica Sì è sempre la stessa tattica Di scappare Di cercare di colpirli Nei punti Però deboli Non Ovunque Perché mi dici che cosa fare? Perché Perché li stai colpendo in posti poco utili Adesso non li sto colpendo affatto Cazzo come tramfizzata addosso Non è molto bello vederti sparare Cioè ma non è neanche divertente Girati adesso Mi rompi le palle sulla strategia È ovvio che mi ritrovi In una situazione completamente senza senso Sì ma non è divertente Ora no Stai andando bene con la pistola però Ma perché sono io Vabbè non col coltello Però non col coltello Sì questo coso qua volevo Usalo Tanto li hai resettati Eh guarda che spreco Eh che spreco Fai sempre lo stesso trucchetto Brutto Bello bello Ce l'è dietro l'altro Lo sparo? No 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 È morto Scendeli a terra A terra E poi lo colpisci in faccia Vai Bello Ce n'è una a destra C'era uno dietro? No ne hai uno sopra Che ti sta lanciando le bombolette spray Bello E una a sinistra Che bello mi ha colpito Una a sinistra Bello il colpo Non c'è bisogno che ricarichi C'è bisogno che colpisci Non li vedo Perché sta dietro Continui ad andare dalle parti sbagliate No no Giochi veramente male eh Cioè proprio male male eh È proprio un brutto Un brutto gameplay il tuo È veramente un brutto gameplay Lo Xanax del gameplay Si fa proprio vomitare Ce n'è uno lì giù in fondo Che ti sta lanciando Continua a lanciarti le frecce infuocate Eccolo lì sopra Lo vedi? L'arciere Una a destra E una sopra Alle rupi Ne hai uno dietro invece con le accette E adesso ne hai una a destra Questo non è morto quella a terra Secondo me eh Visto? Comunque è incredibile quanto io riesca A percepire Il gameplay Senza usare il pad Cioè ti rendi conto proprio C'è la percezione Del nemico È parte integrante Della mia strategia Cioè io capisco Che c'è il nemico Riesci a continuare A non ammazzarli Con un colpo di fucile Io ho dovuto Continua a non ammazzarli Con un colpo di fucile Sì sì è la percezione È vero è vero ragazzi È il tom tom Sono il tom tom del nemico È vero ragazzi Quello da terra con il fucile Fucile da caccia Fucile da caccia Cecchino 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 Giù Giù Cecchino da lontano Respira e colpisci in testa Singolo colpo Alessio Più indietro Più indietro Più indietro Più indietro Bravo Bellissimo Bellissimo Ce la fermo Fermo Girati ce n'è un altro Fermo Girati ancora Giù A destra A destra Alza lo sguardo Ah no Pensavo fosse un nemico Come non ho detto Scusami Vai a ripulire Sei sicuro di non avere il senso di ragno Lo sapete ragazzi Con ogni tanto anche quello Mi viene il dubbio Mi viene il dubbio Quando ti escono le ragnate Secondo te Effettivamente Spider Ma se gioca ai videogiochi Percepisce quando sta arrivando il nemico o no? Non lo so Non lo so È simulato Non credo Non avrebbe un gran senso Beh però scusa Col corpo tu lo percepisci Però No lui percepisce Dei pericoli Però nel mondo reale Questi sono simulati Non lo so se vale Ma non li percepisce tramite il corpo però? Cioè lui il pericolo lo percepisce Perché il suo corpo intercetta il pericolo Non ne ho la più parola E alla fine anche mentre giochi Dovresti sentire Quale sia la base scientifica Di una minchiata come i sensi di ragno? Mi devi dire dove raccogliere la roba? Eh sei pieno Hai lasciato un sacco di roba in giro Perché tu non uccidi e raccogli Tu uccidi Giochi male Ti muovi random Andare là ti muovi random No no ho già raccolto Poi fai male qualcos'altro Ho già raccolto tutto No secondo me hai lasciato un sacco di roba però Ho già raccolto tutto Tanto lì dove erano loro Non posso salire Eh però scusa Se gioca con la VR È uguale Non ha un gran senso Dice che non lo percepisce il pericolo Se gioca con un caschetto di Oculus Secondo me no Secondo me sì Gli stimoli virtuali Non producono Secondo me invece sì Non secerne muco Quando ci sono gli stimoli virtuali Per me invece sì Prova a fare un select Per vedere se ti dà il rosso Però mi sa che quando sei all'aperto Non ti dà rosso Select Alessio Non un Y Dai basta Ah guarda che hai lasciato però del tesoro eh E qua vai select Fammi vedere select Esatto C'è il tesoro Non l'ho lasciato Sto andando lì No l'hai lasciato Ma ci devo ancora andare Che ritira pistola per scrupolo Non mi piace Eh infatti Infatti No no Pistola Sempre la Allora Spider-Man non viene invitata Le partite di poker degli Avengers Perché grazie al senso di ragno riesce a percepire se gli altri mentono Quindi penso che lo stesso valga anche con i videogiochi Guarda questa spiegazione che ci hanno dato di Jack Mi hai rovinato la partita prima Perché? Perché chissà eri dovuto venire qua C'era la mina C'era tutta una struttura A disposizione A parte che hai fatto un buon gameplay Della tattica Non sono d'accordo perché hai fatto anche un buon gameplay No perché mi hanno messo Mi hanno ammazzato E beh quello perché fai schifo a lei C'era C'era una schifo Dov'è la È qua Chiedo ci sia qualcuno Qualcuno Quando sono usciti Non lo so Ma il pianile Subito Bravo Mi stanno sparando le frecce Sì stavo qui perché non mi potevano beccare Sotto non poterti beccare farei delle discussioni Fucile cecchino Alessio Cecchino Cecchino Giù Giù Eh vabbè Eh ma fate un'altra pippa le Eh non è mezza Non serve a niente fucile a cecchino Bello 36 colpi in più inutili Non rompere le scatole No no infatti non rompo Continua a giocare Non questo cecchino Viscio E lui invece t'ha preso proprio bene Con la freccia No dai però Cioè non riuscire a ammazzarlo Con colpo da cecchino Fa veramente schifo Quanto t'ha preso bene lui Con la freccia in testa Dov'è il suo cugino Il suo cugino invece Non è capace E com'è te il cugino Niente Ce la fai proprio Sei l'unico che fucile a cecchino Non ammazza Giù 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 Dove vai Oh tutti giù Quelli giù Cazzo fai Vi raccogli tutta la roba loro Eh Hai lasciato i 60 No C'è soltanto Ce ne stanno almeno due morti Almeno due Ma tanto poi ci devo ritornare qua C'è un barile C'è un borsello Eh questo c'era il borsello Finito No 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 Vicino al barile Secondo me ce n'è corso qualcun altro No Ok risale No sniper elite Non lo recensisce di certo Alessio Direi Ci sta un borsello Alessio No Eh Vai Sì sì il tesoro non lo prendiamo adesso Tranquilli lo so che si riprende dopo E quindi dove stiamo andando Eh Stiamo proseguendo sul livello Perché non mi sembra ci siano altre strade da dover fare Sì se tutti quelli che ti sparavano Si ricomincia da capo qui Si ricomincia da capo con un barilotto Sotto là che c'è una scala Sai che rischio di morire Ah no 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 Mi sembrava una scala Vai Rischio di morire qui eh In che senso Eh rischio di morire Ma perché Perché non ho l'energia Sei strappieno di energia Pieno di barili tra l'altro Eh infatti Che stai facendo Il scivolo Devi fare prima questa e poi l'altra capito Tutte e due devi fare Per alzare il ponte L'evatoio Chiaramente una roba brutta questa qua Perfetto Stanno arrivando da sopra eh Barile barile no resta Sei posizionato bene Sì si arriva dietro al culo Non ti arriva nessuno Non ho guardato Devi farli avvicinare Lui Non ti arriva nessuno Non ti arriva nessuno Non ti arriva nessuno Ci hai messo veramente troppo tempo Sei ancora vivo Ma che mi sono Mi hai detto aspetta Cioè oh Devi essere coerente con te stesso Non ci stai giocando bene Vabbè Di chi è colpa secondo te Te l'avevo detto che sarei morto Lo voglio rifare Però come cazzo pare a me Quindi male Ok Ma dove mi fa ripartire Penso dal duca Fai fino a qui Spingi Vediamo fino a qui Ricomincia Sì Certo Tu vuoi fare esci Vabbè ma mi hai rovinato Mi hai rovinato completamente la partita Basta adesso gioco io come mi pare Sto giocando io Alessio Quando arrivi lì Tiè guarda Dove fa ripartire Ma dove sei scusa Dall'inizio Ma dall'inizio di cosa Di tutto Dai non è possibile Sì Da quando ho cucinato Rifare tutto Quanta la parte va rifatta Ma non è l'inizio Cioè non è lì Sei ritornato indietro Per puntare Dopo lo scontro Con il bossettone gigante Eh sì Vabbè Ma capito Devi rifare tutti i tipi però È lo scopo di questa partita Posso rifare tutti i tipi Li faccio veloci E allora perché mi hai detto Mi hai dato del pad E mica l'ho chiesto io No perché pensavo ci fosse più roba in mezzo No no Avevo salvato io Prima di andare dai tipi Devi sali su Allora Fatemi leggere Alessio è arrabbiato Quindi temi Credo Almeno anche Alessio Dove devo andare Su di qua Sì Cioè che pensava che oggi Ci sarebbe stato progresso Purtroppo ragazzi Vuole giocare Alessio E questo è il risultato Solo progresso Non ci posso fare niente Solo progresso Quanto tempo perso Sì Sì Confermo Per un attimo Ho avuto un collasso al cuore Pensando che dovesse rifare il gigante No quello no Perché l'avevamo salvato Cerca di uccidere E raccogliere subito Alessio Uccidi e raccogli Uccidi e raccogli Uccidi e raccogli Penso che ti vengano Diversi nemici Deve lati Infatti Alessio Non è mazzato neanche questo È assurdo Sì ma Non stai lutando Tutte le casse Un botto di roba Alessio possiamo spegnere Il gioco e commentare Il processo di Depp C'è il contro interrogatorio Dell'esperto Il fatto che ogni volta Dici di prendere Insect Eee Select lui prende Guarda il pad Che ne pensi Pier fa Vabbè quello però Alessio È sempre avuto sto problema Centinaia di colpi Sprecate Centinaia Non hai raccolto Tutte le casse Che erano sotto Decine di casse Non raccolte Cioè così troppo facile Lasci tutto Fai le corse Lasciando tutto Non ti preoccupare Le mine c'erano Non devi di passarci Perché stai continuando Andando su Quindi non ci devi di passare Cioè Sopra il barile Alessio 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 C'erano delle munizioni Sul barile Capisco che non prendi indietro Però almeno Cioè fai qualcosa di utile Perché veramente Ciao gamer gear Sono appena da casa Dovrei recuperare Le prime due ore Vi sono mancata tantissimo Gamer gear lì Soprattutto In generale è mancato Del gameplay in questa partita Oltre a te Cioè Sembra di vedere Mio pare cinquantenne Giocare Ah ma aspetta L'età è quella Durello divino Ma tutta la roba sotto Quindi non la raccogli mai più Rimane Persa Forever and ever Vabbè C'è una tastiera qui Il cancello più lento Del mondo Ad abbassarsi Che figata Si arrampicano Sul muro Era caduta anche Dentro la fiacco Hai visto Sessanta colpi Per ammazzare uno Morto C'è un sacco di roba Per terra Anche sopra qua Sì sì Confermo che gli sta Peppendo un infarto Ad Alessio Non ce la fa gestire Tutto questo gameplay Guardatelo Si sta sentendo male Secondo me adesso Uno svarione Hai lasciato tutti quelli sotto Ci stanno tutte le munizioni sotto Ti ricordi C'erano la cassa Là davanti Questa cassa C'era la cassa Allora Adesso che tiene il pad All'altezza dei capezzoli Mi fa morire Sì sì Perché come i vecchi Come quelli che guidano il volante Lui si tiene questo paddino così Perché lui ha quelle Ma ricordatevi Lui è la regina alien In realtà Voi non lo vedete Ma le mani Gli escono dalle tettine Sono le mani Della regina alien No Queste sono le mani Della regina alien Ragazzi Vedere e giocare alessio È come vomitare A denti stretti E sentire i pezzi grossi Quello non raccogli La roba che ha lasciato A terra Hai rotto il cazzo Ho capito Ma continua a sprecare roba Non prendi Gli ammazzi non prendi C'è una cassa Non prendi però Lei Hai rotto il cazzo Eh ma non prendi la roba Hai rotto il cazzo Cioè Comunque le munizioni Dei fucile a pompa Non sono infinite Sei partito con 65 Munizioni fucile a pompa Eh Ma non dovrebbe essere tutti Ma raccogli intanto Con A Alessio Intanto raccogli con A Allè raccogli C'è una tonnellata Di roba da raccogliere Raccogli sotto Una tonnellata Sotto lì Scendi Quell'altro Pier ma prende un idrante Che tra poco Alessio prende fuoco Alessio is on fire Sì ragazzi Confermiamo Confermo assolutamente E emana calore Lo sento da qui Pier madaglian ad oggi Hai notato qualche miglioramento Nell'abilità videoludica Di Alessio Ragazzi non credo di dover Cioè Credo che basti l'evidenza Per dimostrare La Totale assenza Di miglioramenti Nel gameplay Totale proprio Sì abbiamo anche Il difibrillatore A portata di mano Confermo Alessio Che ne pensi Del fenomeno Port a poti Influencer Che vanno a Dubai E mangiano la merda Per vivere Cacca No credo sia nel senso Di roba schifosa Cioè non lo capisco Eh non lo so Il fenomeno Port a poti Si chiama Influencer Che vanno a Dubai E mangiano praticamente La merda Letteralmente Merda per vivere La merda Non lo so Ah effettivamente Port a poti Ci potrebbe stare C'è una forma Di survivalism Show E finché ci sono I coglioni che guardano Tutto bene Non è nemmeno Ne peggio Dei È un po' forte Questa dichiarazione Allora intanto Riporto il messaggio Di John Lucca Che dice Ho visto il video Di quando parli Della sentenza Della corte costituzionale Ricordante il nome Della madre Ti devo dire Che da ufficiale Dianagrafe Ufficiale Dianagrafe Dove tu sostieni Cosa Finalmente Che è possibile Avere il cognome Della madre Che la trovo Una mossa Una sentenza Sensata Hai detto Una serie lunghissima Di bagianate Mi dispiace Ma dovevo dirlo Va benissimo Potevi intervenire In quell'occasione Puoi anche spiegare Però si presenta Sono ufficiale Dianagrafe E hai detto Delle bagianate Il classico commento Che ci arriva Dopodiché Da ufficiale Intanto dimmi Se ti devo fare Anche il saluto Tipo Se c'è un saluto militare Quando entrano in comune Ti fanno sull'attenti Dopodiché Per me puoi spiegarlo Io lo leggo Con enorme piacere Perché se miglioro La mia cultura Io sono contento Però Non è che ti sei presentato Benissimo Però Devo condividere con lui Una cosa Cioè Tu non puoi Sono contento Di migliorare La mia cultura Però la questione Che il processo Dovrebbe essere Uno Migliora la propria competenza Nel tema Poi esprime un'opinione Beh no Perché stavo leggendo Le notizie Vabbè Però faccio una live La mattina Non è che Tu dici una cazzata Arriva uno Dopo ti informi Ti sai cosa Ho detto una cazzata Allora Intanto Quello è il modo tuo No Quello ti fa contenuti Io metto Distinguo Cioè nel senso Che la puoi esprimere Un'opinione Io ho letto La sentenza E ho espresso L'opinione Tu spesso No Tu spisci Spisci come se avessi La verità La verità infusa Ho espresso La sentenza Ho espresso La mia opinione Che è passabile Di errori Come tutte le opinioni Che si esprimono Come il tuo gameplay Di merda Quindi Ha la stessa possibilità Di errore E basta Dopodiché Ma secondo te Sono gli stessi Di prima Che sono per la terza volta Ritornati Io sono colonnello Del catasto E confermo Mi dici una cosa Raccogli intanto con A Dio santo Raccogli per favore con A Non accolgo con A Non Raccolgo con A Ecco Porca puttana Piacere Pieri Io sono generale Di corpo d'armata Di anagrafe E confermo tutto Siamo veramente stupidi Comunque Secondo te Scusami Ma secondo Ma sono ritornati tutti Secondo te Sono ritornati tutti Chiedono Chiedono Senti questo Chiedono Cos'è l'ufficiale Di anagrafe Ha il fucile Va in giro a sparare Ai non anagrafati Effettivamente Cos'è l'ufficiale Di anagrafe Ti dicono tutti Di passare il cancello Di merda Alessio Sì è l'unica Comincio a pensare Che sia l'unica soluzione Sono ammiraglio Delle graffette Raccogli con A Cristo Raccogli col cazzo Di Alessio Mi dà fastidio Devi raccogliere Alessio Non gli ammazzare Scendi Raccogli E vai E vai Quel cazzo Di Vabbè Alessio Non spreca Tutti Veramente Te lo chiedo Per favore Non sprecare I colpi Alessio Ci dobbiamo Fare un cazzo Di gioco Dai Vai giù Raccogli la roba E torna Su per il cancello Oddio Santissimo Alza 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 il cazzo Di sguardo Di là Sei pieno Pieno Di cosa Di loot Non c'è niente Allora vai Passa Passa No no A sinistra Le casse Pieno di casse Vai Anche a destra Sei pieno di casse Diero di te Pieno di casse No là no Passa Passa e cancello Comunque fa cagare Che fa rispondere Adesso è l'espressione Di chi non capisce Cosa stia succedendo No Non sopporto il respawn Cioè se io ho una strategia Sono andato Fin in fondo Poi è ritroso Poi quando ritorno Ricomincia da capo È una cosa Che io personalmente Perché è in modalità Bimbo minchia Oggi Alessio Non lo so neanche Oggi è venuto così Ma no È che è impossibile Giocare così Allora l'ufficiale Della nagrafe Nell'ordinamento Dice italiano È l'organo competente A tenere l'anagrafe Della popolazione Residente APR Nel quale sono registrate Le posizioni Non chiaro Relativo alle singole persone Alle famiglie Alle convivenze Che hanno fissato Il comune La residenza Non che le posizioni Relative Alla presenza Ma lo so cos'è l'ufficiale Anche mia moglie È ufficiale Perché vive al comune Si vive Lavora al comune Però il concetto È un altro Cioè Io concepisco E do Ci credo Che io possa aver detto Un sacco di cazzate Però diciamo Cioè Vieni qui Mentre sto parlando E non ti presenti Salve sono ufficiale Con le mostrine Tutto il resto Un sacco di bagiate Punto Cioè Spiegale Io ti do lo spazio Per L'ho già preso L'ho già preso Quella ti sembra Una cassa presa È gialla Eh vabbè Cioè Basta Vuoi fare tu Perché adesso C'è sicuramente Uno scontro No no C'era una porta C'è uno scontro Qua c'è un buco Infatti Qua Salta 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 Sulla scala Vieni a prendere Il tesoro Là Ma cosa stai dicendo Salta Sali su C'è il tesoro C'è il buco Qua lo vedi Ma non puoi saltare Perché sto gioco Non si salta Ma sei completamente Andato Non si salta qua Ma va a cacare Ah mo ci dovrebbe essere Van Helsing Quello che secondo te è Van Helsing Ma non è Van Helsing È Heisenberg Vuoi che faccio un test io E poi dopo Sarà il loro rifugio Ale Che bello però Dov'è? È la costruzione No dov'è lui? Spingi Select L'avremmo visto Comunque è diventato Veramente Doom Cioè non è più Un survival horror È Doom Eh sì vabbè Che a me fai? Mi lasci il pato in mano Muori 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 Cioè Perché c'è una rottura di cazzo Se si potesse saltare Alessio Se si potesse saltare Alessio L'avrebbe già spinto mille volte Come faceva su Outlast Che invece di aprire le porte Saltava sul posto Leggi per favore Ora c'è un botto di nemici Guarda ti suggerisce di cambiare la difficoltà Alessio Dopo 20 ore di gioco Guarda Per quanto fai cagare Ti suggerisce Se tu non mi rompi Non mi rompessi le palle Ma che te lo piste Stai giocata solo Stai giocata in merda Non è possibile giocare con uno Raccogli 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 Fai 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 Io semplicemente Se avessi saputo Eh avessi saputo Sì se avessi saputo Che faceva il respawn Che mi hai lasciato con 17 munizioni Ma vai ma puoi fare quello che ti pare Cioè ti rendi conto Se si potesse saltare Alessio L'avrebbe già spinto Incredibile A proposito di Heisenberg Vi sta piacendo questa stagione Di Better Call Saul Non lo sto guardando Ho visto le prime tre puntate Sì molto Moltissimo Tra l'altro la terza puntata Clamorosa Il tizio che muore Non spoilerate però eh Non posso dirti chi muore Comunque ti dico Anzi Fate bene a spoilerare questo Ti dicono che c'è un respawn continuo Anche qua Quindi non so che senso abbia Sprecare tutte queste munizioni Anche se mi sembra strano Che faccia respawn Cioè una cosa Che non ha fatto finora Era il respawn continuo Nello stesso Nello stesso ambiente Oh bello Perché tu Con te è bello Quando missi E non l'hai ucciso Quello lì È caduto ma non è morto Questo è quello che pensi te Lisciato Lisciato Dicono che bisogna andare avanti Se no Arrivano all'infinito Vediamo se finisci le munizioni Alessio da primo luogotenente Del reparto Salumi Della Crai Ipotizzo la Crai Ti confermo che fai cagare Della Crai Che cos'è la Crai? Sarà la Crai? O sarà Crai? Non sono infiniti Dico Dice uno Si vede che gli altri Sono scappati prima Non gli hai Sei riuscito a non ammazzarli Beh insomma Gli ho anche fatto abbastanza male Ah cioè Continui a sprecare Mine E Heisenberg Dopo cosa lo batti Con i Con i Con la potenza Cato E' tostissimo Sto pezzo Ti sei lasciato indietro Della Roma Sono tanti Ma non sono infiniti Ti ricordano che hai anche Un lanciacranate Pierpaolo Però lo terrei Almeno quello per Heisenberg Strano che non hai Non hai uccisi Poi ha Poi uccisi Poi ha Invece sei tornato Perché stavo indietreggiando Ah scusami Niente Niente E' normale Si si Che liscio amico mio Invece questo si chiama prendere Hai visto la differenza Fra chi colpisce E chi invece liscia C'è nessun tipo di differenza Ammazza Non riuscivo a staccare Lo sguardo Dallo schermo Daco tanta bellezza Di gameplay Eh lo so Lo so ragazzi Faccio un po' questo effetto Hanno detto che non vale curarsi E ti sei curato Ah beh certo Io non mi curo mai Eh ho capito Combatti sempre male Eh vabbè Io combatto male Oh ma hai lasciato Condici munizioni Cazzo Ma condici munizioni Ho usato le munizioni Per abbattere E io ho usato la cura Per sopravvivere Eh vabbè Però posso usarla Anch'io per sopravvivere La cura Non è vero Non è vero Quando fai del gameplay sensato Non è vero Non è vero Non è vero Alessio tu sei più abituato A prendere o a lisciare Ci sono gli avvocati Di Depp e Heard Che stanno discutendo Ora del gameplay Di Pierpa Con il giudice Chiedono se sia legale Questa è una bella domanda Ragazzi Effettivamente Madonna Guarda chi ci sta La tua mano c'è Si ferma ogni tanto Dal camminare Vedete Visto la cura Era prevista Perché me l'ha fatta raccogliere Sono arrivati Sono arrivati gli ordini Del re Ritirata Wow Comunque questa storia delle cure È una cazzata Si possono craftare all'infinito Non capisco perché non usarle Perché bisogna raccogliere l'erba Alessio qualche giorno fa Riguardava una vecchia live Circa quattro anni fa E eri molto più energico E vivace Ora invece sei molto irascibile E poco tollerante Tra quattro anni Come ti vedi In galera Probabilmente perché Gli ho tagliato la gola Che facciamo Vuoi fare te questo pezzo qui Che l'ho salvato Hai salvato Sì Ho salvato qua dietro Vai Meglio tortellini o tortelloni È vero Se è da tortellini al brodo I tortelloni quelli I tortelloni Però non esistono I ravioli No si chiamano tortelloni E nascono Sono i ravioli Sarebbero i tortelloni No I ravioli si chiamano ravioli I tortelloni quali sono Sono Infatti hanno lo stesso shape Dei tortellini Ma sono più grossi Ecco che li mangi Ricotta all'interno Ci può essere ricotta E spinaci Quindi come i ravioli No perché il raviolo In teoria è quello Quadrato Tagliato con la zigrinatura Generalmente ripieno di carne Il raviolo Non lo metterei come standard Ricotta e spinaci Dopodiché il tortellone C'è anche quello di zucca Con eventualmente Un pochino di salsiccio Semplicemente il raviolo di zucca E come lo mangi però quindi Il raviolo di zucca Dipende Il tortellone Il tortellone Come lo mangi Sempre O al pomodoro Quindi è sempre come pasta Burro, salvia e parmigiano Non l'ho mai mangiato il tortellone Te l'ho fatti centomila volte A me i tortelloni Centomila volte te li ho fatti Cioè identica al tortellino Più grazie Allora scusa Quanto è piccolo il tortellino Nella tua idea Molto piccolo Forse non ho mai mangiato il tortellino Hai mangiato anche centinaia di tortellini In brodo me l'ho fatto Non mi hai mai fatto il tortellino In brodo Che alla panna Sempre C'è io sempre C'è io sempre a casa Discuterei di questo Devi buttare Non è che c'è una scelta C'è una cassa là Ti andrei a raccogliere Stai attento perché adesso c'è un Sento rumore di morte Non abbiamo visto chi viene Non abbiamo visto niente Prendo la porta No perché il baggio sarà chiusa Prendi quello dietro di te Non so chi ci sia Qualcuno di cattivo Non c'è nessuno Sì adesso arriverà qualcuno E tu sei in un cul de sac Quindi esce all'aperto Continua a stare sempre Sempre in zone chiuse Non c'è niente da salire E io continuo a girare qua attorno C'è il tipo dietro Lo vedi che ti sta colpendo Ma ci sta Ci stava Nelsing Fa il suo lavoro Che cazzo deve fare Mine Mine Posiziona Mines Io voglio capire Soltanto posso salire da qualche parte No Infatti in modo tale Che devi fare questo E ti si aprirà la porta rossa Quindi Mines Madonna Che noia Che barba Che noia Ma ce l'ha la faccia Secondo te? In mezzo alla barba Allora Hai 100 munizioni Io ti direi Usa le mine A me A me annoiano le mine E invece il che fai È divertentissimo Perché guarda Non è una sfida fra me e lui Non è una sfida Se te che scappi Non è la sfida Se lo ammazzi Alessio Non te che scappi Non è una sfida quella È te che corri in un ambiente aperto Ma poi dove cazzo l'hai messa la mina Su un punto dove lui non verrà mai Praticamente Ma dov'è lui? Di là a sinistra Si è rotto il cazzo pure Lui si sarà incastrato da qualche parte Si sarà incastrato Guarda Guarda dove cazzo sta Messo quella mina Guarda Guarda dove l'hai messa Proprio sull'angolo No mi spara No fallo camminare Che cazzo fa Per prendere la mina Ti ha staccato la cosa Dai Ma che senso aveva O te arriva la golonna In faccia Che senso aveva Sta cosa che hai fatto Era lì Era Era ai piedi della mina Grazie una abruzzese È proprio bello Perché siete all'antipodi Il super campione E il vecchietto Prendi l'altra mina Alessio Non lo colpirai mai Lo vedi che non gli fai niente La sfida Bella sta sfida Ma perché devo sprecare le mine A me non piace Perché non è uno spreco Mi stai ammazzando Non è uno spreco È uno spreco Ma c'è te Secondo me Si è atterrato sopra Secondo me Questo stai sprecando Perché non colpisci niente Capito Questo è uno spreco Ma se c'è sangue Ma quale sangue C'è lo stracando di sangue Che gli esce dalla faccia Prendi proprio la polvere sul muro Allora usa la granata Che è più difficile da gestire Quelle ne è quattro Perché gliela devi lanciare addosso Ma a me deve Se questa è l'abilità La bomba Vai Vediamo se così riesci Devi saperlo colpire bene Come si Non mira però No Infatti per questo è completo No Lo colpito Ma che lo sa Cioè Serve bello sapere Ma guardavi altrove Comunque non corre Quando ha sto coso in mano La colonna La colonna È ricresciuta la colonna No Ce n'ha tre Ce n'è ancora un'altra C'è puzza di piscio Sì mi sono pisciato addosso Prima Bello Complimenti Ho preso Ho sbagliato Ho sbagliato Forse subito un'altra Lo riuscivi a ammazzare Questo è stato incredibile Si è spostato Questo è stato incredibile Vedi adesso la sfida è finita Perché non sei capace Su quattro Ne hai colpito con uno Posso usare le armi Che mi pare Sì 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 Non questo che hai quattro colpi Quindi usano E le hai fini di te Eh ma le hai fini di te Alessio Purtroppo siamo rimasti Senza per colpa tua Con quattro munizioni Eh che ci possiamo fare Che ci possiamo fare Allora la pistola Non posso perché non serve a niente Se usavi le granate bene Non lo posso Se usavi le granate bene Una granate in più avevo Se usavi le granate bene Una granate in più avevo Cosa faccio con una granate in più Vai Vai Bello sto gameplay Bello Bello Vai accanisciti Accanisciti Incredibili Imbarazzante Cioè Grazie per l'hyptrain Ragazzi che sta per partire Fortuna che non ti ho ucciso Guardalo Guardalo Eh Boh Ma no rifarlo Scusa Posso rifarlo come cazzo mi pare No Tanto di continuare Sempre a di cambiare la difficoltà Perché Ricomincia Sì Sei sicuro Eh certo La fine di merda che meriti Ha scritto Mutavix Questa è la fine di merda che meriti Non ti ho ucciso Ti ha distrutto Allora Usa le granate Per cortesia Ah no Gioca come vuoi Hai ragione Gioca come vuoi Vai Stai andando alla parte sbagliata Comunque c'è puzza di piscio Vabbè Non sono certo io Non mi sono pisciato addosso Alessio Chiaramente Penso Te lo devo anche specificare Non lo so però Sento puzza di Di orina Forte È una cosa che sentite Forse Sì Può essere Il caffè Al piscio È possibile Vincenzo è più tardi Sì Abbiamo detto che avremmo occupato il canale Però abbiamo detto chiaramente Potrebbe essere incontinenza Forse sì ragazzi Forse è incontinenza mia Si mette male Oltre alla partita Oltre alla partita Le stai perdendo la dignità Ti chiedono se ti si è rotta la sacca del catetere Lei potrebbe essere No no Sei ancora integra Fate due passi pure Tranquillo Posto Ma perché A me piacerebbe capire Qui dov'è la parte di gameplay Che cosa sono qui Qui simbolo sotto Zero 15 Eh le munizioni Devi ricaricare Che cos'è quello sopra Allora È perché erano munizioni stordenti Quelle altre Che non hai Quante munizioni sprecate così Nell'arma più difficile Vai avanti vai avanti Guarda non voglio dire niente Ma cosa vuol dire sprecate Gioca così Gioca così Gioca così Gioca così Gioca Si sta staccando la gola No ancora no Mo te la stacca eh No Non l'ha staccata È andato su Ha chiamato gli amici frizzi Secondo me quando sta lì Non lo colpisco secondo te Secondo me è tipo in una modalità Ininfluente Anche questo non fa niente No secondo me sì Secondo me questo l'ha sentito Come fai a capirlo Se non reagisce in nessun modo Cambia arma magari Magari Possa sempre la stessa mano E non è devi fare due mani Per cambiare arma Eh ma come faccio a muovermi Lasci un attimo la pad E ti muovi no Ma non mi posso muovere Lasci infatti un secondo L'analogico E ti muovi C'è un uomo in quel collo Questo lo evito quindi Slay Panariello vuole l'opinione da te in merito Ai recenti smottamenti nella stampa videoludica nazionale Tu che sei un giornalista esperto Spiegami quali smottamenti ci sono stati Non lo so forse parlano sempre di Francesco con Marco Buono Stai per finirli eh Multiplayer non ha più concorrenza Stai per finirli eh Questo sembra che l'ho colpito Sì però userei un'altra arma perché non rimanere con zero granate possibilmente perché ci abbiamo messo un gioco intero a prenderle Cos'ha un'altra arma per favore Dimmi quale Qualsiasi Tipo Le granate da lanciarli contro Le granate da lanciarli contro Perché due pallottole Che sta succedendo Perché due pallottole Perché Perché Due pallottole del lanciagranate Non si possono sprecare però sprechi due Candelotti Perché i candelotti fanno schifo Ma da chi fanno schifo Funzionano bene solo con un nemico così lento Ma cosa fanno schifo Fanno schifo nel gameplay Funzionano bene solo con un nemico così lento La colonna La colonna Scappa Ma non si sa come ha fatto a non prenderti eh Che stai facendo l'eh Che bella questa come l'hai preso Non ti ho fatto niente Secondo me non gli faccio niente Per me lo prendi perfettamente invece Non ci arriva fino a là No lì infatti è proprio stupido Aspetta che a terra Eh lì non serve a niente colpire Aspetta che a terra giù Adesso c'è suo fratello Che mi scassa il cazzo Chi è il fratello? Questo qui Non è un fratello però Che vogliamo fare? Che stai facendo? Una specie di ballo? Dai è morto È morto È morto Non è morto Non c'ho più pallottole È morto secondo me eh Io non ho più pallottole E fai Y Usa la granata Cioè sei pieno di granate Cioè hai 60 le Due Eh vabbè Sono 60 per ammazzarlo È morto adesso Si vede che è morto Gli è tirato addosso 60 colpi Purtroppo il problema certo È quello chiaramente Dai che è morto È morto Ma finiscilo Finiscilo Da vicino Il colpo finale Da vicino Il colpo finale Ma vaffanculo Però sei brava eh Ma vaffanculo Però sembrava veramente quello lì eh Ma va a cagare Va 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 Ma che che sei E vai vai vicino Il colpo finale Sembrava chiaramente Che stesse per fare il colpo finale Ma magari aveva un colpo di tosse Cioè comunque non ti avvicini Ma perché vicino Perché vicino Ma non lo so Perché mi dava l'idea Tipo di un quick time events Messo così capito Che gli dovevi tirare qualcosa Mi dava Piane ti devi curare No non ci si cura Neanche tu ti puoi curare Non si piva niente E infatti non ti puoi curare È una minaccia No È una regola del gioco È una minaccia Adesso spreca tutto Vediamo quanto cazzo ci metti Si sente male Non lo so chi ha detto No si mette male Pierpaolo boicottatore Esatto Perché non fai le munizioni Che non serve Ma però perché non le fai Preso amico mio In quei casi Non si capisce Se gli fai del male Arriverete a fine gioco Con 10-15 cure Inutilizzate Questa è una run No healing Facile dopo che usi Alessio come cavia Bravo Bravo Rodolfo Spam Spiegagli un attimino Come funziona Pier E il risveglio Del gameplay Candelotto sprecato Ovviamente Porca troia Che cazzo Lo ammazzo Allora Volevo sprecare Roba inutile Mamma mia Mamma mia Oddio santo Oddio santo Oddio santo Oddio 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 Senza parole Totalmente proprio Cioè è Incredibile Uno ha scritto Nintendo ha acquisito Capcom È chiaramente una cazzata Spero sia una stronzata Dai non è possibile È veramente stato Imbarazzante ragazzi Ragazzi vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Cioè ragazzi io Sono bagnato per me stesso Cioè Guarda Alessio Vi voglio bene ma oggi mi state privando Il piacere di parlare con Vincenzo del nuovo trailer Di Kinobi proprio oggi durante Lo Star Wars Day Sapevatelo il Gab sappi che io ti voglio tanto bene Apprezzo tantissimo Il lavoro che stai facendo Con Media Molecule Quella cosa che fate della vostra agenzia Anzi mi farò sentire presto Per poter lavorare insieme Ma non devi rompere i coglioni Il più forte Vorrei una serie tv sul super campionissimo Pierpa Ma incredibile Pierpa ti rendi conto che sei inarrestabile Cioè ma dove prendi Guarda che assurdo Dove prendi a questa combo di forza bravura Ma guarda che veramente assurdo Le mani di Pierpaolo dovrebbero essere conservate Al museo mondiale del gameplay Che dovrà essere costruito in via super campione No ma in realtà ragazzi Vorrei fare come Visto il prova di Jennifer Lopez Mi dovrei assicurare le mani Come lei si è assicurato il culo Alessio le azioni di Beyond Meat Si riprenderanno mai Questa è una bella domanda Secondo te? È difficile È iper competitivo Di relativo facile accesso Ma poi adesso che fai? Butti o comunque aspetti? No aspetto perché tanto Non hai paura che continuino a scendere? Confidi in un'acquisizione? Tanto ormai Tanto ormai Ma confidi in un'acquisizione? No No Guarda un po' Voglio vedere come funziona Quando ci sarà una sistemazione globale Di tutto il problema La pandemia e la guerra Quando se esisterà? Ma cosa? Cosa è successo? Cioè ci siamo trasferiti da qualche parte Siamo dove dobbiamo essere Ben fatto Che spettacolo per Paolo Non te la farò passare Ma chi è lo sforzo? Chi è lo sforzo? Lui Ancora uno sforzo E sarà tutto pronto Ti darò una mano E tu in cambio E tu in cambio In cambio cosa? In cambio cosa? In cambio cosa? In alzitutto vieni qui Metti i flacoli nell'altare Senti la voce Metti i flacoli nell'altare E il resto lo capirai da solo Chissà se si imbarazzano Quando li chiamano Gli fanno doppiare questa roba qua Tra l'altro se ti do Donnozione Metti i flacoli nell'altare Donnozione Il doppiaggio italiano è imbarazzante Sì Non penso che comunque c'è Non mi sembra che il materiale Di partenza Anche il piatto di Guglielmo Ho preso Hai capito? Pierpa vorrei essere il tuo membro Mentre fai dell'autoriotismo Con quelle mani È incredibile Sì Pierpa farai un corso su domestica Sul controllo della potenza Del gameplay Sì con Giacomo Volevamo fare insieme Il corso su domestica Però poi lui ha dirottato Su quello su come si disegna Come si usa clipart Solo usi clipart studio? No a cosa serve? Per disegnare Per disegnare È una roba da tablet Da iPad Sì Ah no Non ho il tablet Come no? Non ho più il tablet Ho l'iPad 2 forse Non hai più Già è cambiato questa cosa qui Perché non ho il tablet Ho il primo iPad Beh è diverso a Non ho il tablet Non ho più Adesso avere un iPad Prima generazione O seconda generazione Quello che fu È non avere il tablet Ma scusa mi dici te Che la roba di Apple è bella Perché si conserva tantissimo Ma hai già cambiato idea? Probabilmente se lo accendo Funziona ancora Hai già cambiato idea? No assolutamente no Sicuramente è molto più longeva Di tutta la merda Che compri tu Però vedo che invece Hai già cambiato idea No assolutamente no Cioè scusami Quando è uscito il primo iPad Quello che ho comprato io Cioè Boh Vent'anni fa Scopri tutte le galleria Lei qua No devi esplorare tutto Devi raccogliere Ho sbagliato pulsante Ma come fai a sbagliare il grilletto Con un pulsante frontale? Ma me lo spieghi? Non ho fatto il tempo Cioè ma ti rendi conto Non ho fatto il tempo Comparirmi a Cioè Vai avanti 21 21 Maschio Argentiere Polmonite Compatibilità Molto alta Nessuna perdita cognitiva In grado di controllare Le mutazioni del corpo Applicata Procedure di controllo Cognitivo Mandate in osservazione Questa sarà sicura No l'ultimo No ero 4 su 4 No era il terzo Ah hai ragione Scusa Quindi qua è dove Facevano gli studi E dove hanno fatto Secondo me Madre Miranda Per Paolo Almeno tieni la guffietta All'orecchio E non fare il caca sotto Mi avete sgamato Non andare là dietro Dove devo andare E devi esplorare Tutta la galera Questa la devi esplorare Tutta perché è rosso E poi tornare indietro Però sono già in fondo Ogni galera Sì infatti Adesso fa le stanze centrali Ogni cella Fa le stanze centrali Bravo C'è un rumore di animali Credo che tu abbia Qualcuno dietro di te La vedi? Se riuscirà a prendere Perfetto Ho capito Ma è impossibile Non vanno più giù Guarda Non è morto ancora Certo perché non lo colpisci Non possono morire Se non li colpisci Cioè muoiono solo Se tu li colpisci Non muoiono più Non muoiono più Guardalo Ma non continua a colpire nessuno Non muore Non muore Gli sto sparando di tutto Da due ore a questo qui A due ore che gli sparo in testa Perché dici che non lo becco Perché non lo colpisci L'ho sparato in testa 20 colpi L'ho sparato Niente Passa dal muro Ti prego Gioca normale Ti scongiuro Select Ok Torna indietro e sali la scala Vai Madonna Madonna Sali la scala Hai visto? C'era un pesce speciale Hai visto il pesce speciale C'era la foto del pesce misterioso Prima La posso ancora guardare Bisogna trovarlo Sto pesce speciale Sedi dov'è il pesce misterioso Non ne possiamo perdere tempo a cercare Fermati Guardati intorno C'è una gallina Vai 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 Coltella Coltello Perché non riuscirai mai a prenderlo così E con coltello invece sì Sì scommettiamo Perché almeno Almeno non sprechi delle munizioni C'è il gallo speciale dietro Vedi? Queste sono tutte munizioni sprecate Invece così Vai Prendi il pollo Anche prendi il pollame Prima Anche il pollame di là Perfetto A destra A destra c'è della roba L'hai visto? No Ah sì Bravo Bravo Che occhio Bravo Alessio È una roba ferma Quindi Ok Vai indietro Vai indietro No 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 Non c'è ancora La secondo me c'era qualcosa No 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 Non sulla roccia Qua No ho visto male Sì sì ho visto male Passa dietro qua per vedere Visto Abbassati 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 Bravissimo Sì ma non ha veramente senso Si chiama collezionabile Ok Chiave col feto Non ho visto che c'era Disegnato No Chiave di ferro qua Fammi select Vediamo dove stiamo Ma perché dobbiamo selezionare Le chiavi Io non riesco a capire Queste cose qua Queste robe inutili Di noi Ah dietro la chiesa Comunque hai lasciato Una stanza Una casa vuota È tipo un souls Perché Perché ti si apre Cioè Fai tutto il giro del perdono Eci dalla porticina E voilà Short Poi capisci Il level design Ragazzi scusate Il Entrappare la chiesa a salvare Non vuoi andare No 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 La chiesa a salvare La casa rossa No dopo Prima salva Ragazzi il pesce speciale Dov'è che stava Cos'era quel rumore fortissimo Un brutto rumore Salva Il pesce speciale Dove sarebbe ragazzi Ah l'abbiamo già preso Ah ok Come l'ho detto allora Non ho pensavo Scusate Quando l'abbiamo preso Come abbiamo preso Non lo so Fai select sempre Ok E quella casa lì Ti va di andarci? Ti va di scoprire La casa rossa? Che c'è? Sarebbe mezz'ora Select 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 La casa rossa A sinistra Posso usare la pistola? Sì ma ce l'hai dietro però Ma chi cazzo è? Non lo so Però è cattivo Mi è piombato proprio Ah di nuovo No questo non l'ammazzi così Madonna come ti ha lisciato Che vuoi fare? Raccontami Tuo obiettivo È lontano Ah ti fai colpire Andando piano piano Passo vicino Che cosa vuoi Come vuoi che l'ammazzi Tanto fa sempre cagare Come al solito Per me con una granatina O può stare Visto che io A differenziato Non lo spiegate Può stare il fucilone Quello là Grosso Basta che sei certo Di colpirlo Con lanciagranate Perché le mine Non ce le abbiamo più Se sei bravo Secondo me Io non ho spiegato Le munizioni come te Quindi per me Devi fare un po' il giro Da dentro questa casa Però se non vuoi Per arrivare a quell'altra Eh no Non si passa da qui Capisco come si passi Per andare in quell'altra Ah c'è qualcosa qua Ci saremo stati mille volte L'altra casa è rosso Non so come si passa Per arrivare lì Posso sfondare No no Non si rompono questi qua Prova a passare dietro A sta casa Dietro a destra No Vabbè niente Allora provi Di andare frontalmente Forse facendo il giro Da sopra Si riesce Secondo te Non da qua Perché qua Non ci si arriva Facendo forse Tutto il giro Ho lasciato qualcosa Si Sicuramente la vita Hai lasciato qua Dove vai dove vai Dove vai Devo schivare lui Eh ma sta andando La parte sbagliata Hai visto prima Come mi ha attaccato Bravo Ricarica veloce Che non l'ammazzi con colpo Ce ne vogliono tre Ricarica sempre Adesso Mi hai proprio azzerato Il battito cardiaco Ricarica Per qualche secondo Ricarica È già ricaricato No non è già ricaricato Adesso è già ricaricato No così no Così mi sbatto io Così no Madonna che lisci Che fa Sta dietro di te C'ha anche ragione A un certo punto Lui ad ammazzarti Com'è normale che sia Dopo un po' Ha anche ragione Hai per caso Non è la mia Non è la mia Migliore giornata Del gameplay No dici Pierpaolo Gesticolando Ha dirottato due Airbus Potrebbe Che cosa faccio Devi rifare tutto Avevo salvato Non devo rifare niente No devi andare lì A fare la casa Vai Dove stai andando Mi nascondo No perché ci trovi altri nemici I rischi Poi non ti stai nascondendo Alessio Se io non lo vedo Lui non mi vede Certo Tu dici che lui Lui non ti veda Ricarica subito Ricarica subito Ricarica subito Che è morto Secondo me No Sì Morto No no C'è rumore C'è rumore di vita C'è musica Attiva Purtroppo Vai Bravo Che bravo Ricarica veloce Ma quanti ce ne vogliono Vai vai Basta Ricarica veloce Ah impossibile Sì sì No ma non ha senso Vai Dov'è Diero di te Sempre diero di te Posto Sempre dietro di te Dietro di te E dietro di te Dietro di te Dietro di te In basso Dietro di te Dietro di te Completamente dietro di te Sei proprio bravo comunque Ti ha staccato il pisello a mozzi Che tra l'altro Hai visto che roba Beccati sta sarsiccia Comunque sei proprio bravo Comunque hai detto Tre colpi Poi sono diventati cinque Poi sono diventati sei No sono diventati sei Vai ricomincia Sono diventati sei Per chi pensa che questo sia il gameplay peggiore di Alessio Vado a vedere quello del primo Wolfenstein Ho fatto tre anni di terapia dopo quella live Vai No però oggi diciamo che non mi sta venendo Praticamente nulla Questo nemico è speciale Usate la Magnum La Magnum è la pistola che tu hai usato contro Heidenberg Che ha evidentemente delle proprietà particolari Colpisce il nemico probabilmente Quella è la proprietà che ha Lo sai che effettivamente proibersi Che fa adesso col coltello? Sei sicuro? Mi sembra che non gli faccia niente Beh no Gli fa male Devi colpirlo più volte Certo se colpisce una singola volta C'è un problema Io non capisco veramente dove tu vada Che purtroppo non gestendo il territorio Non riesci neanche a gestire il nemico E quello è il problema Che tu sia sempre dietro di te Dietro di te Molto vicino a te Sembra di vedere Blair Witch Project Comperò una persona che Anche peggio di Blair Witch Project Peggio del telefono in mano Della telecamera in mano Sto provando uno stress fortissimo Sì sì è stressantissimo Vedere sto gameplay di Alessio E vabbè però Ha pintato Non gli ho fatto niente Dovevo aspettare Carica Chiaramente Sì Una merda E ci sia morto Non muore mai A destra È dietro di te È dietro di te Ale Grazie al cazzo Metto fra me e lui qualcosa Il fatto che tu Una gabbietta in testa Credo sia morto quella gabbia Basta è morto No La devi smettere Non ti ha ammazzato tanto Sì però non mi puoi mentire Ah sì ti ha ammazzato Ha attaccato il cazzo di nuovo Comunque è No sei ancora vivo Oh E spara Niente non muore È impossibile È semplicemente impossibile Raccogli la gabbietta Morto Bravo Ma che bravo 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 Non è morto Sì sì è morto Ti è venuto anche l'achievement Quindi è morto al 100% Raccogli Raccogli Cosa Il suo corpo Frascico Diero di te Diero di te Era molto più vicino Vai Dove sono le sue spoglie mortali Non era lì Sì sì Non lo so Devi trovarlo Alessio Perché non è possibile Che lo lasciamo Dove era Ok Bravo bravo Ma perché bravo Non è bravo Non è bravo Non è bravo Non è qui Non è qui Se tu non mi tradivi Io non avrei preso danno Sì Sinistra Non guardi Sì sì è questa È quella a sinistra di da casa È quella a sinistra vai Ma tanto non ci posso andare Sì vai Non da qui Non da qui Guarda A destra Eccola No 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 Qua Ma qua è chiuso È dentro È tutta bloccata Non riesco a capire come ci vai È tutta bloccata Sì non ci si può andare Non mi è chiaro come ci arrivi Vai ancora qua a destra Non ci può passare in nessun modo No No È bloccata questa qui Sì E apri di nuovo La mappa Fammi vedere un po' No allora Torna dal duca e basta Dai Torna dal duca Puoi scavalcare lo steccato Com'è Con l'è Non credo Non si salta con l'è Non si scavalca Non si scavalca Torna dal duca Torna dal duca Stai incastrato qui adesso Eh lo so Perfetto No non così Eh devo invece sì Così in alto Non sono convinto Però vabbè Ma dov'è il duca Di scavalcare lo steccato Dicono tutti di passare Dalla casa blu adiacento E di passare dallo steccato Ti stanno prendendo per il culo Allora per te c'è qualcosa Si scavalca però lo steccato Vai Questo scherzio è steccato No perché c'è la mini barriera No e allora Quell'altro steccato Allora Salta questo Salta La Eccolo Vedi Bastava scavalcare lo steccato Le Che più contento Si Ho raccolto due Cagate Si Adesso mi è andato al duca Ti ricordi come si va dal duca? Zero proprio Eh allora vacci Non è qua dentro No il duca è tutto a sinistra Dritto Rispetto a dove sono io Sì Sì Ovviamente non puoi andare così Devi passare da dentro la chiesa Da dentro la chiesa Già che passi dalla chiesa Basta va per sicurezza No no Salvi dopo il duca Se adesso incontri un nemico e muori Devi rifare il lupo Non mi interessa Vabbè ok Il lupo lo potrei fare ancora meglio Di come lo faccio Sì Dove devo andare? Dal duca Dove devo andare? Giù e girarti intorno Dove vedi il punto esclamativo Non ho visto il punto esclamativo Gira a destra Qua a destra Tutto a destra Tutto a destra Dritto Ok Salva O metti Vuoi mettere prima il coso? Io salverei Prima il duca Prima fai le robe che rompono il cazzo Poi salvi No andate a salvare Please Cosa vuol dire no andate a salvare? Manca una location intera Più un'altra abbastanza lineare Stanno perdendo tempo Per attendere l'uscita di Caped Comunque Caped ci pensavo oggi Ma quanti anni è che hanno Tantissimo Che hanno annunciato un DLC Tantissimissimo Ma secondo te come mole Sarà equiparabile a quell'altro O semplicemente c'è È il disegno Che richiede troppo lavoro Potenzial lanciagranate Giustamente Non ci sta da potenziare ragazzi Non c'è vedete? Non lo danno da potenziare Non si potenzia a salvagranate Non è un salvagranate Spargi granate Saranno quattro boss messi in croce Hanno fatto anche la serie Netflix di Caped intanto Non penso che abbia deviato risorse Sicuramente da qualcun altro Comunque Guardavo un po' il trailer A robe del genere Molto figo Perché hanno anche preso le sagome Insomma Dei personaggetti Nella serie di Netflix E gli hanno messo Quell'ombrettina a sinistra Tipica del multilevel Perché una volta lo facevano Fotografavano il layer E quindi si producevano Quelle ombre fastidiosissime E anche quella finezza Lì hanno avuto Sono veramente Sono bravi Fenomenali Il DLC di Caped È previsto per il 30 giugno Lo sappiamo Domanda giornata Preferite Berengheri O padre Nicolás O Guglielmo Abbiamo già detto prima ragazzi No È giornata perché c'è anche Guglielmo Guglielmo è il nome Mi piace Ma chi è sta gente Quelli che ci hanno dato la roba Che ci hanno dato cosa Il piatto da vendere Sta roba qua Non ho idea di chi siano Alessio ha visto il video Hai visto il video di Dario Moccia No Non so quale Ma tendenzialmente No Posso dare per scontato Di non averlo visto Ma è bello che hai visto Ma d'altro l'ufficiale Dell'anagrafellino Ma più detto nulla Usa la Magnum Che sciotta tutti Eh sì ma c'è munizioni Perché non l'ho potuto usare La Magnum C'è uno Lo potevi usare Ma c'è uno Perché non fai le munizioni Non ci sono Non si possono craftare Le munizioni della Magnum Perché non giocate a Caped Dopo Village Almeno potete giocare in Coop Grazie al cazzo Ogmac Da dove salti fuori Guarda abbiamo preso Tutto il calice intero Abbiamo preso Abbiamo aperto l'universo La colonna intera Pier ma alla fine Hai scoperto Chi ha regalato lo shampoo No Non lo so più saputo Che cos'è il regalo Dello shampoo È un aneddoto Sì Sì Alessio perché non aprite Le donazioni Quando siete voi in live Potremmo tranquillamente Regalarti una serie S Ma potete venire Tranquillamente Nelle prossime live Del salottino Su Valorant A fare tutte le donazioni Che volete Almeno compro qualcosa Per fare streaming Che cosa potrei comprare Per fare streaming Da casa Sicuramente della connessione È come Dove la trovo In che senso dove la trovo Io sono al massimo Della fibra che arriva lì Ah Cioè Eolo secondo me Va bene per streamare Magari mi danno qualcosa in più Faccio un eolo Di backup a consumo Cosa succede Per esempio Per esempio Ho il cellulare Potrei provare a streamare Col cellulare No Fai uno speed test Per vedere quanto ti è stabile Fai una prova di streaming OBS Come faccio a vedere Ah una prova di streaming Perché Perché comunque adesso C'ho l'unlimited Con tre Effettivamente Quanto ti regge la connessione Magari Vale tutti gli elementi Del DLC di Caped Ma quando esce Slam and Swipe Grazie al cazzo Ma cioè Noi facciamo della qualità Ho dovuto fare la serie tv Ho dovuto fare La trilogia cinematografica Diglielo esatto Cioè E da noi siamo in pochi Siamo in tre Seguilo tu La produzione Di una trilogia Sì ma aprite le donazioni Apriamo le donazioni Quando facciamo Scusate Guarda un po' Un pesce gigante Che cosa è successo Raccontami Abbiamo messo Tutti e quattro I pezzi del feto Nella colonna La colonna si è Sbaccata Ma l'ultimo pezzo del feto Quando l'abbiamo preso Prima Da chi Dopo il tizio gigante E poi abbiamo Adesso evocato questo Adesso stiamo scendendo Nel sottosuolo Eta nel calice di pietra Fatti Starlink Ale Non penso che sia Un gran cane upload Come tutte le connessioni Satellitari Questo era un ascensore Praticamente Costa poi Una sassata Starlink Hai visto che roba No tipo Mi sembra costi 300-500 euro Il kit E poi mi sembra 80 euro al mese 90 euro al mese Sono una sassata Costa Funzionare che funzioni bene Ricordare sempre Comunque Giuppi e Gerico Hanno detto la stessa minchiata Contemporaneamente Hanno fatto flick e flock Fatti Starlink Metti Starlink Tanto sei ricco Eh questo è vero Questo è vero 99 euro al mese Eh a 100 euro al mese Però costa tantissimo Anche il kit Cosa stai facendo Devi dirmi cosa stai facendo Devi proseguire nel gameplay Sto proseguire nel gameplay Sì ma non loot No ricerca No Radar No no Quello è scontato Invece che faccio tutto Questo è il ponte Che ho appena evocato Perché ti fa salvare qua Perché abbiamo fatto Un pezzo enorme Quale pezzo enorme Sì ma erano tutte robe Di attesa Che rompevano i coglioni E quindi ci fa fare Guarda dove stiamo andando Abbiamo fatto tutto Abbiamo fatto tutti quanti Adesso andiamo di qua Sei contento di vedere Tutte quelle X Mamma mia La più grande goduria del mondo Il kit costa circa 500 euro Ma perché cazzo Non ti trasferisci Perché serve una ragione interna Un moto dell'animo Per trasferirmi Guarda dove siamo arrivati La necessità della connettività Guarda un po' Curati che si vede male In America sei sopravvissuto a peggio Mi piace È sempre il personaggio strano Del pezzo degli scacchi Che parla E di Miranda Oh entra pure Ne parlano come di un pezzo meraviglioso Adesso È Heisenberg Heisenberg non era quello Che abbiamo appena ammazzato No Chi era quello Con la barbiggia Chi era Un tizio senza nome Heisenberg Infatti non aveva la bargiggia Heisenberg Per adesso è complessa Sta domanda Ma no Ma quasi Ma io l'apprezzo Che cosa apprezzi La cosa sui coglioni No Apprezzo Apprezzo Witcher 3 Chiaramente Può essere Un'esperienza piacevole Il problema è che È troppo dilatato nel tempo Cioè Invece i tacchi sui coglioni Sono un dolore acuto Immediato Rapido Alessio Hai mai pensato Di provare L'ayahuasca Alla grande Sono anche stato diffidato Dall'avvocato Di Mia cognata A parlarne Con le mie nipotine Della ayahuasca Cos'è l'ayahuasca? È una Droga Che arriva dal Brasile Quella che mischi Due radici particolari Che sono inerti Per i cavoli propri Ma se li metti insieme Sono uno dei più potenti Neuro Non so come si chiamano Quelli che ti stimolano No Neurotrasmettitori Neuroricettori Quelli che ti provocano Reazioni di questo tipo Quindi hai esperienze Extracorpore Ah addirittura E le hai già provate? No però La ragazza di cui ero innamorato Le provava prima di venire con te? Me l'ha raccontato Me l'ha raccontato L'ho vista di recente Mi ha raccontato Di aver avuto l'esperienza Qualche volta Perché lei è stata in Brasile E poi soprattutto Importano illegalmente L'ayahuasca E a Bologna Vanno sui colli bolognesi Durante la notte Provano l'ayahuasca Ma è talmente potente Che ti pisce Cagli addosso Perdi completamente Il controllo di te stesso E quindi Solo se hai un po' di esperienza Riesci ad avere Quel minimo di controllo Necessario e sufficiente E lei era stata promossa Quella che teneva acceso al fuoco Mentre gli altri Si ribaltavano completamente Un'esperienza Che assolutamente Vorrei fare Alessio Sta roba L'hai raccontata mille volte Ma spiegalo più a Paolo Non me lo ricordo io Lui è come Una tavola Tabula rasa Cioè I tortelloni e i tortellini Ma ieri avrò fatti mangiare Ma delle quinta Hai presente? Forse il 90% Delle volte No i tortelloni Sì è vero A casa mia Anche i tortellini Anche i tortellini Ma perché alle mie nipotine? Ma niente Perché le raccontavo così Ragazzo Ho detto Ho visto La ragazza Blablabla Abbiamo parlato Eccolo guarda un po' È arrivato Ma lei Gli hai puntato Perché gli punti la pistola? Il tuo piano è Farmi fuori come gli altri Così potrai salvare Rose Giusto? Come la tv si spegnerà La tv si spegnerà Fin cinque minuti Non hai capito niente Ma perché la tv si deve C'è un immoto C'è un immoto Hai rotto il cazzo Ma chi è? Non lo so Però ha rotto il cazzo Ma vedrai Adesso ci farà cadere Ovviamente dentro al buco C'è proprio telefonatissimo Ma perché Ma perché mi devi dare Una sedia A un centimetro Dal buco? E veramente Ci stiamo per sedere lì Non ci credo Ma perché ha tirato Un coltello Non lo so Ma poi scusami Noi abbiamo la pistola Lui ha un coltelletto Di merda Perché ci dà gli ordini E ci spinge a terra? Ma cosa fa? Controlla Controlla È come magneto Non magneto Per vedere se sei degno Di entrare Nella famiglia di Mirano Non voglio far parte Della famiglia di Mirano Nemmeno io Ma eccoci qui E io sono il prossimo Giusto? Prossimo di cosa? Mi fai fuori Prendi il mio po' Nessuno vuole prendere Il tuo posto Me ne sbatto Dei tuoi problemi personali Io rivolgo Solo mia figlia Ma non ho capito Con il taglio dell'aria No Del coltello Che l'ha spostato No Però non è Dove è il coltello adesso? Sta sopra All'altra destra All'altra destra Possiamo salvare Rosa E poi usarla Per schiacciare Miranda Come un verme Rosa è sempre Nostra figlia? Non è un'arma Non è un'arma Non è un'arma Sempre se tutti Sulla sette chiaramente Era lui al telefono Guardalo guardalo Era lui al telefono Che ci mandava I messaggi in televisione Sei sicuro? Sì Ma quindi sono d'accordo? Per me è totalmente Compressibile Questa Ma è completamente a caso Vieni combattilo lui Per iniziare Vai Combatto chi? Il cattivo Che ha detto Non ho ne idea Chi c'è lì sotto C'è l'uomo motore Ah è quello per cui Si sono beccati la denuncia Perché si sono beccati la denuncia? Non sono io eh Non mi rompe le coglioni Che volte si sono beccati la denuncia? Perché il personaggio Con la testa di motore Aereoplano L'hanno rubata Da un concept art Di un artista Che non c'entrava il cazzo Mi hanno chiuso la porta Davanti alla faccia Per fortuna che adesso Si so scavalcare Per fortuna che stai sbagliare il muro Abbassati Quindi? Cambia vicolo Cazzo Cazzo Ma come rubato Hanno detto tutti Siamo arrivati all'arena Dove mi ammazzerà Brutalmente Ce lo fa aspettare per un po' Dici che c'è qualcosa da raccogliere? Si di sicuro No non c'è un cazzo Select 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 Ok Vedi Con la polvere da spada Non puoi fare le pallottole Solo se sei capace Ma io non sono capace Però tu sei capace No 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 Credo tu stia tornando indietro Adesso Sei sicuro? Boh sì Ma non c'è un indietro Un avanti È uno spazio aperto Il problema è che tu non guardi Capito? Vedi? Basta arrivare alla scala Eccola lì Vai sali E in realtà giù Magari c'era Sì era pieno di roba da prendere Chiaramente Non si è giocata tanto Allora fatemi vedere Sono avvenenatissimi col gioco Che fa cagare? Sì Sono tutti incazzatissimi Questi che c'hanno in mano? Ma che c'hanno? Il casco Ma che c'hanno? L'Oculus Quest Mamma mia Un colpo ho sbagliato Vai Chi ti sa di nero? Ricarica? Vai E select? Comunque ha lasciato un sacco di roba Chiaramente Vabbè dai non fa niente Tanto ha lasciato un sacco di roba Siamo abituati Va là sotto Vai avanti Tanto è pure fin dalla puntata È finita Dai Ci siamo Vediamo dove vai a parare E poi ci fermiamo Allora Fatemi vedere Stati discutendo Abbiamo fatto un sacco di gioco Purtroppo devo dire Che sono stato un po' una zavorra Appena appena però Dai Non ti demolire così Giusto appena appena Grazie Zio cane per l'abbonamento Questo posto è assurdo Devo tornare su Cazzo stiamo in una fabbrica adesso No è l'ex parco giochi No guarda è la fabbrica che costruiscono gli zombie Hai visto? Hai visto in lontananza c'erano gli zombie in costruzione? Sì sì Vedi? Direi di sì perché è lampeggiante Cos'è questa? Aumenta il numero di slot disponibili Alla grande Adesso non rischierai più di perderti qualcosa Questa non ce ne frega un cazzo Ma perché non compri tutto? Cioè hai infiniti di soldi Hai 275 mila Che cos'è? Dio santissimo Che cos'è? Il mitra? Guarda la roba Come fai? Comincia a costare 180 mila Mamma mia Quindi cosa compri? Eh non lo so È finito? Sì è finito Hai tre minuti per fare gli acquisti Troppa roba Allora questo è un super fucile a pompa simiautomatico dalla rosa compatta Ma non è tipo una mitragliata che c'è? Oppure c'è questo che ha una pistola La V61 Custom Allora non andrei a spendere lì? Comprerei questo? Secondo te è un fucile a pompa? Ah sì è un fucile a pompa Infatti va con le stesse No va con altre munizioni Ah no sono le stesse Ok Bomba artigiana non ci serve Non ci serve 18 mila No non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Però il V61 non ce l'abbiamo Il Sig 12 sì Quindi questo sarebbe un mirino elettronico Questo è il tamburo maggiorato 100 mila per il tamburo maggiorato per la Magnum Che però di cui però non abbiamo le munizioni Che non puoi fare? Non le puoi comprare? No No purtroppo no Abbiamo le munizioni A precisione non ci servono Ci servono Allora io comprerei questo Che questo Questo è il suo perché Mi sembra evidente Quindi compriamo questo Così non ci entrerà mai Pensa che hai anche comprato l'allargamento del coso Non c'è bisogno Così non ci entrerà mai Ma paffanculo Duke Spero che si rivedi utile per te Sicuramente si rivedrà utile Spero che si rivedi utile per te Alessio se ti trasferisci a Milano Ti prometto che ti porto tutte le sere A fare l'aperitivo sui navigli Cena in galleria da cracco E dopo cena al principe di Savoia A bere qualcosa Però Gerico Sono eterosessuale Ma è subito a finire Che fai sesso? No però evito di uscire Ma ancora si è potenziato ulteriormente Se non è una potenziale Compagna Si è potenziato ulteriormente Di coppia per fare Filiare Questo è il Sig 12 Costano troppo cazzo Andiamo a caccia Anche io infatti andiamo a caccia Eh niente Non possiamo far nulla Spiegami Spiegami Cosa vuol dire Non possiamo fare cosa Non c'è abbastanza Da poter vendere Per fare Per fare Violenza Cioè ti mancano i soldi Hai sprecato tutti i soldi Avevi 270.000 Come hai fatto a finire Eh per comprare Quel fucile lì della madonna Costava 180 Restano Eh più altri 50.000 Che costava il mirino elettronico Per fare cosa il mirino elettronico Da montare su quel fucile nuovo Allora venderò a questo punto Venderò questo Il micro tac lo vendo Quanto vale? Perché tanto il Sig Non riesco a capire Questo è sempre un fucile a pompa Sempre un fucile a pompa A questo punto L'avevi anche potenziato Eh sì Ma quindi quale vale di più? Cioè vale meno Il Sig è meglio Ma perché? Come fai a dire che è meglio? Non capisco Perché sì si vede che è meglio Perché? Perché è nuovo però No perché vedi guarda Già parte la 1170 di potenza Senza potenziamento E sopra? 960 col potenziamento Quindi a questo punto Ce lo teniamo La Warfish Bane L'hai venduto? Vendilo Vendo un attimo Sei in ritardo di un minuto Fatto fatto Potenziamenti Ah non posso Sì posso comprare Che facciamo? Velocità di ricarica Capacità Sta tutto tantissimo La capacità no Preferisco ricaricare Solo potenza Voglio uccidere io Non possiamo Sì ce la fai 79 ce la fai? No no Velocità di ricarica Facciamo capacità No capacità di cosa? Il caricatore Ma tanto una cosa semplice Ricaricare Meglio anche la velocità di ricarica Aiuta moltissimo Ma cosa? Sono componenti che aiutano Nel gameplay Che spreco di soldi Hai sprecato tutti i soldi T'ho fatto a questi Molto oculati Perfetto Salviamo Dovevi comprare Il potenziamento Capacità delle dita per Alessio Non ci sta purtroppo ragazzi Occupazione Basta dai Salva Chiudi Salva Salva Non devi fare niente Vuoi sparare due colpi Con quello Prima di salvare No no Prima salva Poi spara due colpi Prima salva Poi spara due colpi E chiudiamo Vai spara tutto Ma non è automatico Ho detto Spara No 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 tiri spinto Non è automatico Sì è automatico Però vedi anche la ricarica È a munizione Vedi Quindi non devi far A posto A posto Abbiamo fatto del grand gameplay Oggi siamo arrivati Spero alla fine del gioco Quasi Se noi ce la facciamo Con la prossima puntata A chiudere No Non ne ho la più palida idea Vorrei che Qualcuno si abbonasse Per coprire la faccia Di Pierpaolo Va bene Grazie mille Adesso vi lasciamo Con credo Vincenzo È stata una lunga puntata Una lunghissima puntata Finiva più Devo andare Ho anche una riunione Io quindi devo andare Ciao ragazzi È stato piacevolissimo Buon Obi-Wan Kenobi Ciao May the fourth be with you Bravo ciao